l'Italia ieri sera, vittoria dell'Inter per 2-0 contro la Juventus e prima del derby di Roma quindi weekend della 36esima giornata del campionato di Serie B di derby comprendendo anche il massimo campionato, quello sentitissimo come dicevamo tra Ancona ed Ascoli l'Ancona che viene dal pareggio raccolto martedì scorso 2-2 contro il Vicenza un pareggio in rimonta per la squadra Veneta dopo che la squadra di Salvioni era andata sul 2-0 grazie alla doppietta di Colacone Ascoli che invece viene dal successo per 1-0 contro la Triestina grazie all'un rigore di Antenucci sicuramente tanti motivi, tante emozioni ci auguriamo di vivere tanta intensità in questo derby di Ancona e Ascoli nutrito e folto gruppo che state vedendo di tifosi giunti da Ascoli circa 1700 unità in stadio che quest'oggi ospiterà più di 8000 paganti quindi cornice sicuramente ideale per il derby delle Marche numero 44 allora con l'ausilio della grafica andiamo a vedere quelle che sono le formazioni delle squadre in campo a cominciare dall'Ascoli moduli speculari 4-4-2 per entrambe le squadre Ascoli in campo con Guarna in porta poi difesa da destra Gazzola, Silvestri, Micolucci e Gian Lombardo centrocampo con Pesce, Amoroso e Sterni luce di Donato centrali davanti coppia composta da Antenucci e Lupoli quindi manca Bernacci in avanti per l'Ascoli Bernacci che ha avuto problemi di caratteri muscolari manca anche Portin, il centrale finlandese che verrà sostituito così come era successo martedì da Christian Silvestri a disposizione di Pilon ci sono il secondo portiere Frezzolini quindi Ciofali, Giorgi, D'Agostino, Tiboni, Marino e Mattila questo dunque l'Ascoli targato Pilon risponde l'Ancona di Salvioni anche qui dicevamo 4-4-2 da Costa in porta poi da destra in dipesa Schiattarella, Cosenza, Cristante e Sabagno centrocampo con gli esterni sudamericani Surrago e Miramontes, i centrali Catinali e De Palco coppia d'attacco composta da Mastro Nuzio e Colacone a disposizione di Sabagno sono il secondo portiere Schena quindi Mircev, Mustacchio, Pisacane, Milani, Camillucci e Gerardi dunque un'Ancona che ripropone il modulo 4-4-2 con Schiattarella, il giobbi di centrocampo adattato in difesa così come era venuto anche in recenti esibizioni tanto per ricordare l'ultima in casa con il protone sconfitta per una rete a zero quindi Schiattarella preferito a Milani si affrontano due dei migliori attacchi del campionato rispettivamente il secondo con l'Ellascoli con 32 centri un posto da Antenucci e Bernacci anche se quest'ultimo non sarà della partita come detto si chiude da Lupoli che di reti le hanno realizzate ben 6 di fronte a Mastro Nuzio e Colacone che di reti le hanno realizzate 29 19 per Mastro Nuzio, 10 per Colacone grazie anche alla doppietta siglata l'attaccante di San Morato milanese proprio martedì scorso in quel di Vicenza risultato finale 2 a 2 è un'Ancona che paradossalmente nelle ultime partite ha ottenuto più punti esclusivamente punti fuori casa due pareggi ed una vittoria con la decisione per 2 a 0 e due sconfitte consecutive invece in casa contro le squadre calabresi 2 a 1 contro la Regina ed 1 a 0 contro il Crotone grazie ad un gol di Ginestra quindi è un'Ancona che ora è distante quattro lunghezze dalla zona playoff e deve assolutamente vincere questo derby per poter ancora dare adito alle speranze di raggiungere la zona delle poltrone che contano quella della zona playoff in campo dunque le squadre Ascoli che invece con la vittoria con la Triestina quota 47 punti in classifica quest'oggi in caso di successo potrebbe raggiungere proprio l'Ancona vedete la terna arbitrale c'è un internazionale per questa gara Matteo Simone Trefoloni da Siena classe 71 134 gare dirette in A 86 in B internazionale dicevamo dal 2004 due precedenti con l'Ancona entrambe vittorie l'ultima in ordine cronologico il 24 ottobre 2009 3 a 1 in Serie B con l'Ascoli invece 5 precedenti due vittorie un pareggio e due sconfitte l'ultima il 17 dicembre 2006 Ascoli Torino 0 a 2 queste le curve due tifosi questa in particolare la risposta da parte dei sostenitori dell'Ascoli mentre avete visto sullo sfondo anche la scorologia della tribuna di fronte alla nostra postazione quindi centrale con le strisce rosse derby sentitissimo questo derby dell'andata vi ricordo si impose l'Ancona per tre reti a uno ecco lo Salvatore Mastronuzio primo piano per lui lui che non va a segno da cinque gare in questo campionato è un Mastronuzio che segna invece una doppietta ad Ascoli nel derby d'andata l'altro gol fu realizzato da Colacone per l'Ascoli segnava Antenucci questo è il saluto tra Pilon e Salvioni due allenatori entrambi del nord Pilon di Preganziol Salvioni di Garlasco provincia di Bergamo Pilon di Preganziol in provincia di Treviso due comunque signori del calcio che stanno stemperando alla vigilia di questa gara ogni possibile tumulto che invece viene dagli spalti Ascoli in casacca bianco-nera con pantaloncini e calzettoni neri l'Ancona la sua consueta tradizionale divisa maglia rossa pantaloncini bianchi e calzettoni rossi splendida ecografia anche da parte del senatore di Doris ovviamente della curva nord hanno sentito particolarmente questo confronto un confronto che vale sicuramente per il campanile ma anche tanto per la classifica perché l'Ancona se vuole ritornare come dicevamo in zona playoff zona nella quale ha stazionato per parecchio tempo tra l'altro anche in prima e seconda posizione deve assolutamente vincere perché a quota 50 la squadra di Salvioni è distante quattro lunghezze dalla sesta posizione l'Ascoli invece a quota 47 tre lunghezze sotto in caso di successo potrebbe agguantare i rivali hanno andato a finire 3 a 1 per l'Ancona tutto è pronto per l'inizio di questa partita di ritorno che vale ve lo ricordo per la 36esima giornata del campionato di Serie B la 15esima di ritorno tutto pronto ultimo occhiata di Trefoloni e i suoi collaboratori vi ricordo che sarà assistito da Giampaolo Bianchi di Cosenza Gianluca Masotti quarto uomo Aleandro Di Paolo di Avezzano ultimo controllo dunque dicevamo di moduli speculari sia per l'Ascoli che per l'Ancona 4-4-2 Lupoli scelare accanto ad Antenucci Bernacci non ce l'ha fatta Silvestri costituisce l'infortunato Portin praticamente invece formazione tipo per la squadra di Salvioni che deve fare a meno soltanto dell'ex interista Gerbo si parte dunque per questo terbi numero 44 delle Marche è subito possesso palla Ancona con il tocco a destra per l'ex del Torino Schiattarella prova a rientrare centralmente lo scambio con De Falco c'è il pressing con successo da parte di Lupoli allora l'Ascoli che prova a riproporsi a sinistra con l'ex Bologna Fioritino Amoroso in verticale per Lupoli stretto tra due avversari ancora Lupoli cade giù c'è fallo secondo Trefoloni sarà calcio di punizione a favore dell'Ascoli Lupoli stretto in sandwich da Cosenza e Catinali ecco Arturo Lupoli Fox in the Box come veniva soprannominato quando giocava con la maglia dell'Arsenal suoi compagni tra gli altri e anche Titi Henry attuale giocatore del Barcellona seguiamo questo calcio di punizione a favore dei bianconeri è pronto Luci pallone basso nel mezzo respinta della difesa poi la mezza rovesciata con il palo clamoroso di Antenucci che occasione questa per l'Ascoli al minuto primo dopo 51 secondi la mezza rovesciata da parte di Antenucci e il palo clamoroso colpito dall'Ascoli appena dopo un minuto stiamo rivedendo la provezza di Antenucci sarebbe stato davvero un euro goal per la formazione marchigiana la formazione picena con Mirko Antenucci che ha raggiunto quota 20 in classifica marcatori grazie al rigore realizzato il rigore decisivo nell'ultima vittoria interna contro Triestina calcio d'angolo per l'Ascoli è stata direttamente una deviazione è amoroso che prova di insistere il pallone è troppo lungo però per Pesce si perde direttamente sul fondo e lotta anche sugli spalti naturalmente ci auguriamo che rimanga entro i limiti della sportività tra le due tifoserie sempre molto calde acerrime nemiche sportivamente parlando rilancio da parte di Da Costa c'è Surraco che controlla subito la formazione da parte di Schiattaglia c'è Luci però che riesce a tenare in possesso palla si accontenta e l'ha rimessa con le mani ecco amoroso che controlla subito Ascoli dunque vicinissimo al gol con la mezza rovesciata in area spettacolare di Antenucci che ha colpito il palo più lontano rispetto alla posizione di Da Costa c'è stata anche una deviazione il calcio d'angolo successivo non ha sortito effetti positivi per la squadra bianconera rilancio da parte di Micolucci pallone in zona Lupoli va lo stacco Cosenza che lo anticipa ora Miramontes l'argentino che è recuperato da un guai muscolare prova comunque ad incunearsi dalla difesa lo scambio con Mastro Nunzio viene fermato sicuro segue comunque con De Falco il tocco ancora per Schiattarella c'è Surraco che si sovrappone Schiattarella prova ad accentrarsi ora De Falco ancora orizzontalmente tocco per Savagno De Falco va a tagliare il campo a destra per Miramontes che si è invertito come esterno di centrocampo si accentra Miramontes prova a cercare spazio per il tiro poi il lancio spazza via Silvestri con pallone che termina direttamente in fallo laterale rimessa con le mani a favore dei Dorici Schiattarella Surraco ancora Schiattarella tre avversari su di lui prova a guadagnare spazio pallone nel mezzo non filtra Amoroso chiude rimessa con le mani Ancone subito partita entrata nel vivo della tensione della transagonistica con Lascoli che ha colto un palo con Antenucci rimessa con le mani Schiattarella pallone per Colacone controllo non eccezionale allora riparte Amoroso subito la profondità chiusura da parte di Cattinano Cosenza alto il pressing da parte di Lupoli Cosenza si rifugia direttamente su da Costa ancora Cosenza è il confronto numero 44 dicevamo nei 43 precedenti 13 vittorie dell'Ancona 15 dell'Ascoli 15 pareggi ad Ancona 22 volte quasi un monologo della formazione dorica con 11 vittorie 9 pareggi ed un solo successo dell'Ascoli in C1 nella stagione pensate 32-33 l'ultimo confronto il 7 settembre del 2008 lo scorso campionato 0-0 la seconda giornata del torneo era l'Ascoli Fargato di Costanzo l'Ancona di Francesco Monaco il rilancio da parte di Silvestri la chiusura di Cosenza di testa pallone nella zona di Mastro Nunzio uno dei 4 ex della partita avanza Mastro Nunzio attenzione vicino a luce Miramontas zona cross pallone che spiove nel mezzo secondo palo Colacone non arriva allora Sfera che termini direttamente sul fondo la risposta da parte di Lancona Piloni viperito in panchina subito richiama i suoi ragazzi in fase difensiva ecco Enrico Guarna uno dei tanti ex nella stagione 2007-2008 in C1 una promozione con Lancona 33 presenze e 13 gol soltanto subiti dal parte del portiere catanzarese cresciuto comunque nel settore giovanile dell'Ascoli Lucci il tocco per pesce attenzione buona opportunità pallone in profondità per lo scatto di Antenucci sì ancora Antenucci l'uscita da parte di La Costa che controlla il pallone in presa bassa è un Ascoli che sembra essere partito bene in questo inizio di gara subito con il palo colto da Antenucci tra l'altro anche Antenucci è un ex stagione 2004-2005 in C2 26 presenze e due reti non ha lasciato il segno ma era così tangibile così come Salvatore Mastronuzio che ha giocato ad Ascoli nella stagione 2003-2004 in serie B 24 presenze e due reti anche per lui tra l'altro era compagno di Colacone l'attuale suo partner offensivo nell'Ancona anche nell'Ascoli in quella stagione rimessa con le mani per la squadra di Pillon di Donato ecco il nostro anunzio ora De Falco sbaglia però il tocco in appoggio riconquista Luci subito per Ramoroso poi ancora in avanti per Antenucci attenzione Antenucci prova a guardare la spazio Antenucci il tocco poi pallone che viene chiuso splendidamente all'intervento di Cosenza c'era completamente libero a destra Pesce in ottima posizione può ripartire l'Ancona il lancio di Miramont subito in profondità per Colacone non c'è fuori gioco attenzione l'uscita da parte di Guarni che controlla la sfera in presa bassa emozioni da una parte dall'altra partita all'inglese questo derby numero 44 tra Ancona e D'Ascoli subito le due squadre che vogliono l'intera posta in palio sono state caricate a dovere dalle due tifuserie nel corso dei pochi giorni trascorsi dall'ultimo impegno di martedì scorso il turno entra settimanale dove l'Ascoli ve lo ricordo ha battuto la Tristina 1-0 l'Ancona ha pareggiato a Vicenza per 2-2 dopo che aveva terminato il primo tempo sul risultato di 2-0 grazie alla doppietta di Roberto Colacone eccolo Colacone che controlla subito giù da destra per Surraco pallone troppo lungo che scivola via caduta della pioggia in mattinata ma non tale da pregiudicare la regolarità del terreno di gioco che come vedete comunque si presenta in buone condizioni capitano dell'Ascoli Gian Lombardo un Ascoli che come detto deve fare a meno di Portin e di Bernacci oltre che di Sommese e Romeo infortunati di lungo corso Lupoli fermato da Surraco allora Cristante quindi da Costa tocco per Cosenza spazi chiusi Catinali c'è il pressing alto da parte dei centrocampisti dell'Ascoli Cosenza prova questo rilancio in profondità Gian Lombardo che intercetta arretrato per Silvestri che sta per mettere in difficoltà Guarna che è costretto al rinvio con il sinistro lo fa in maniera piuttosto sbilenca rimessa con le mani Ancona subito battuta schiattarella attenzione cade giù c'è fallo secondo Trefoloni quindi buona posizione per la battuta della punizione a favore dell'Ancona vedete che intanto si sta curando ancora a bordo campo Arturo Lucoli di 6 centri di 6 centri in questo campionato nonostante non abbia iniziato spesso come titolare nella squadra di Pane prima di Pilon poi questo oggi si è riterrato uno spazio importante dall'inizio proprio in uno degli appuntamenti che contano di più per la tifoseria scolana quello del derby ottavo minuto sempre 0-0 al Delconero fino a questo momento una grande emozione dopo appena 50 secondi con la mezza rovesciata di Natenucci che ha colto il palo ora l'Ancona può subire di questo calcio di punizione è pronto Mattias Daniel Miramontes col suo sinistro al veleno a cercare di mettere in crisi la retroguardia bianconera solita mischianaria nessun giocatore dell'Ascola a parte Lucoli che è fuori campo fuori dall'area di rigore parte Miramontes ballone nel mezzo il colpo di testa la parata clamorosa da parte di Guarna ma c'era gioco fermo per Trefoloni che aveva già fermato appunto la prosecuzione del gioco per un fallo in area scolana stiamo rivedendo il sinistro di Miramontes con il colpo di testa da pochi passi da parte di Savagno l'ottima respinta di Guarna ma l'arbitro aveva visto evidentemente un fallo in difesa pronto Guarna allora la battuta del stagio di munizione a sinistro per Gian Lombardo la profondità a cercare Antenucci amoroso Lupoli anticipato da Cosenza prova a ripartire l'Ancona con Catinali ancora lo scatto in profondità la chiusura di Micolucci sul Mastro Anunzio ottima lettura da parte dell'ex Pelinese Pescara riparte Lascoli con Didonato profondità Lupoli può girarsi palleggio da parte dell'ex attaccante del Treviso ancora Lupoli il tocco a destra per Gazzola scende l'ex Pelinese si propone Pesce parte il traversone di Gazzola troppo lungo per tutti amoroso cerca di trattenerlo in campo si era nel frattempo alzata dall'assistente non sappiamo se per indicare che il pallone fosse uscito dal campo con una posizione di fuori gioco ecco Salvioni che vive la partita in maniera molto tesa come potete vedere avete visto dall'inquadratura di pochi istanti fa Cosenza opta centralmente per Cristante vuole andare con il sinistro ora Savagno ancora Cosenza ecco il lancio in profondità nella zona di Mastronunzo chiude però bene Luci allora Didonato tocco per Giallombardo Silvestri Didonato profondità amoroso sbaglia però il tocco allora riparte l'Ancona con Surraco attenzione se ne va in dribbling il fallo da parte di Donato calcio di punizione a favore dell'Ancona richiamo verbale di Trefoloni per Didonato vedete la prima la prima che ti perdono poi la prossima scatterà il giallo per l'ex centrocampista del Giulianova e Palermo Surraco pallone che spiove secondo pallone non ci sono compagni provano ad arrivare Miramontes il pressing su Gazzola poi Pesce in ripiegamento ancora Gazzola che spazza via Cristante prova a rimanere ne attacco l'Ancona ora con De Falco profondità Miramontes non arriva suggerimento troppo lungo allora rimessa dal fondo a favore dell'Ascoli tutto questo all'undicesimo nel corso del primo tempo 0-0 tra le due squadre partita intensa partita vissuta dalle due formazioni in maniera particolare si travede anche dal tipo di atteggiamento che hanno in campo le squadre che vogliono assolutamente la vittoria non solo per motivi di classifica quest'oggi ma anche in particolare per un certo campanilismo l'Ancona si impose l'andata per 3-1 successo storico il primo al del Duca l'altro era ben 67 anni fa quando ancora si giocava al campo squarcia Surraca attenzione Surraco prova l'azione in profondità lo scambio con Catinale attenzione ancora Catinale pallone che spiove sporcato da Didonato allora prova a trasformare la zona in offensiva Pesce avanza Grandi Falcate il giocatore di proprietà del Catania poi taglia il campo in profondità pallone in zona Lupoli non c'è regolarità attenzione Lupoli parola entra in area ancora Lupoli infermato in questo caso da Cosenza con la sfera che termina in faro laterale si lamentava nel giocatore di Ancona per una posizione irregolare da parte di Lupoli al momento del lancio episodio una certa violenza lentamente da rivedere stiamo rivedendo la fase finale con Lupoli che controlla schiattarella provvidenziale nel recupero poi Cosenza che spazza in faro laterale la rimessa con le mani a favore dell'Ascoli è pronto Giallombardo ecco Lupoli controllo il pallone per Ramoroso se ne va ancora Ramoroso a sinistra attenzione guadagna spazio traversone nel mezzo c'è Antenucci prova a girarsi pallone basso respinta da parte di Cosenza che può ora riproporre in avanti per l'Ancona attenzione a questo top poi pesce in scivolata in anticipo su Miramontes che cade giù riesce comunque Miramontes a dare il pallone c'è Raffallo a favore dell'Ancona subito battuto Savagno Miramontes De Falco ancora Miramontes l'argentino vuole in profondità Colacone ancora Colacone che ha ottenuto il suo massimo di reti Roberto Colacone proprio con la maglia dell'Ascoli in Serie B ben 12 realizzate per Roberto Colacone in totale due stagioni in Serie B con la maglia dell'Ascoli ben 60 presenze 17 gol attenzione intanto al lancio da parte di Colacone c'è l'ammunizione di Giallombardo per l'intervento precedente su Colacone quindi prima munita della gara Giallombardo nell'Ascoli e ci sarà il calcio di punizione a farlo dell'Ancona stiamo arrivando l'intervento falloso a piedi teso sull'esterno ruguagliano sul rango quindi ammunizione per Giallombardo che non era comunque un elenco dei difidati che però piuttosto cospicuo soprattutto nel filo dell'Ascoli punizione Ancona pronto Pasquale Schiattarella 5 gol per lui in questo campionato splendido quello realizzato all'Olimpico di Torino sul raco fermato ancora da Giallombardo rimane in attacco la squadra di Salvioni Schiattarella Cosenza avanza centralmente lo scambio con De Falco c'è il pressing alto di Di Donato allora prova a ricominciare da Cristante tocco a destra per Schiattarella profondità ecco Mastro Nunzio prova l'anticipo Nicolucci falloso però in questo caso Mastro Nunzio è arrivato per primo sul pallone allora giusta la concessione del calcio di punizione a favore dell'Ancona comandato da Matteo Trepoloni pronto Catinali l'esterno a cercare sul raco la copertura di Giallombardo sul raco prova a prendere spazio finte contro finte ancora sul raco che ora è chiuso vuole ricominciare c'è Amoroso che raddoppia chiude rimane in avanti ancora la formazione di Salvioni Schiattarella arriva Catinali 1-2 con sul raco attenzione Catinali scivolata di Amoroso poi Catinali non riesce a tenere il pallone in campo rimessa dal fondo a favore dell'Ascoli si aumenta Catinali con l'assistente era stato disturbato a suo dire dall'intervento in scivolata di Amoroso che comunque non era irregolare stiamo rivedendo ma ha impedito a Catinali di fatto di arrivare sul pallone prima che questo uscisse rimessa dal fondo a favore dell'Ascoli pronto Ricky Guarna ecco il rilancio non proprio eccezionale ma Sanunzio tocca ma di fatto indietro il pallone poco poi per Miramontes ancora Mastronunzio la vipera vuole scendere in posizione di ala attenzione Mastronunzio traversone nel mezzo secondo palo c'è Surraco di testa la respinta da parte di Micolucci rimane in attacco l'Ancona con Catinali ora schiattarella ancora zona cross pallone che spiove nel mezzo di testa Guarna in due tempi il colpo di testa da parte di Miramontes vicino in questo caso l'Ancona all'avvantaggio azione di una certa pericolosità con il cross a destra di Surraco l'imbeccata di testa da parte di Miramontes Guarna in due tempi stiamo rivedendo netto anticipo di Miramontes è arrivato Guarna intervento che non era semplicissimo è riuscito comunque a far suo il pallone in due tempi ora sull'altro fronte Antenucci prova a girarsi tra tre avversari vuole ricominciare da Didonato ancora il tocco a destra per Pesce che è un macino naturale ma agisce come esterno a destra ancora Pesce prova ad accentrarsi Guarna 1-2 con Antenucci ha spazio per girarsi avanza anche Gazzola attenzione zona cross pallone basso nel mezzo respinto però in precedenza da Savagno rimane in attacco questa volta Lascoli che usufruisce di una rimessa con le mani Gazzola Pesce c'è Miramontes ne è mai in dribbling secco Pesce ancora con il sinistro prova ad andarsi viene fermato in una seconda battuta da Savagno che poi va subito al rilancio zona Colacone anticipo di Giallombardo poi Gazzola evita che il pallone esca Didonato profondità ancora Lupoli attenzione Lupoli Lupoli prova ad andare in azione personale c'era solo Pesce che chiamava il pallone Balancona può ripartire ancora con Colacone lo scambia con De Falco c'è Schiattarella che chiama palla a destra ecco che riceve può distenderselo la squadra di Salvioni pallone in profondità attenzione per Mastro Anunzio Mastro Anunzio in velocità Nicolucci che tocca il pallone l'ultimo tocco è di Mastro Anunzio che prova ad evitare che la sfera termini sul fondo non vi riesce sarà rimessa per la formazione Ascolana partita comunque vibrante con emozioni da una parte dall'altra due squadre che si affrontano viso aperto vogliono l'intera posta in palio stiamo vedendo questa splendida apertura in profondità per Mastro Anunzio che è andato poi decentrandosi non è riuscito ad evitare che il pallone uscisse ora in diretta di Donato il pressing alto da parte di Catinali allora già Lombardo prova ad accentrarsi l'ex difensore di Livorno e Cremonese ora Silvestri che agisce come già ricordato al posto di Portini come centrale di destra difensiva lancio in profondità non c'è però Pesce allora chiude Savagno De Falco Savagno ecco Catinali che controlla Ancona che viene da due sconfitte interne consecutive Ascoli che viene da due sconfitte esterne consecutive quella per 2 a 0 a Cittadella quella per 1 a 0 a Torino scivola amoroso Schiattarella può superarlo sbaglia però il passaggio allora recupera Antenucci di Donato il tocco per Pesce ha spazio ora davanti a sé Pesce prova ad incunearsi ancora Pesce profondità il suo sinistro che è sporcato anche dall'intervento di De Falco giunge tranquillamente dalle parti di Da Costa che controlla allora può ripartire Savagno senza pause questa prima parte del primo tempo ora lo stesso De Falco unico giocatore Anconetano Doc esperienze per lui anche con la maglia del Pescara del Chievo lo scambio con Catinali attenzione profondità non c'è irregolarità per Mastro Luzio Mastro Luzio in aria vuole il pallone Colacone pallone che si alza sopra la traversa occasionissima anche per l'Ancona con Colacone al diciottesimo minuto ottimo il lancio per Mastro Luzio Pilon si lamenta forse voleva la posizione regolare stiamo rivedendo Catinali tocco per Mastro Luzio che era partito però orizzontalmente ha osservato Colacone il pallone è per lui la sua conclusione immediata l'ansata però troppo solo la traversa si lamenta Colacone che ha già realizzato il gol dell'ex la partita di andata così come Mastro Luzio quando la formazione di Salvioni si impose per 3 a 1 e spiccava il volo verso il primo posto poi nel ritorno un rendimento decrescente per la squadra Dorica che se nel girone di andata aveva collezionato 26 punti nelle prime 14 partite nel ritorno ne ha collezionati 16 ben 10 in meno ha avuto una flessione la squadra Bianco-Rossa intanto Antenucci qualche scintura con Cosenza Trepoloni va a riportare la calma in questo caso la spiegazione anche con il centrocampista napoletano Catinali piove piove ad Ancona lo vedete dagli ombrelli lo vedete anche da questo primo piano di Antenucci e Catinali continua a cadere una pioggia comunque non fastidiosa terreno di gioco sta reggendo bene anche se siamo a temperatura climatica comunque accettabile per il mese in cui ci troviamo aprile intorno ai 15 gradi attenzione Catinali la profondità ancora per Mastronunzio prova ad entrare in aria ancora lui il tocco da parte di Micolucci non c'è secondo l'assistente sarà rimessa dal fondo a favore dell'Ascoli era sembrato che ci fosse una deviazione di Micolucci nel tentativo da parte di Mastronunzio ma assistenti direttori di gara sono stati di diverso avviso ecco Francesco Cosenza ventesimo esatto nel corso del primo tempo sempre 0 a 0 ma dopo il palo clamoroso di Antenucci l'Ancona ha risposto con due azioni pericolose l'ultima delle quali porta la firma di Roberto Colacone sul racco la profondità attenzione Mastronunzio ha spazio di frontassese ne va in dribbling attenzione Mastronunzio il tocco Miramontes in aria Miramontes vuole mettere dentro è un tiro cross il suo con il pallone che si perde direttamente sul fondo Malancona sta crescendo vistosamente in questi ultimi minuti è andata vicino al gol in due circostanze ultima stiamo vedendo il sinistro radente di Miramontes che anziché servire sul racco che stava arrivando a supporto ha provato direttamente la conclusione in porta in diagonale non trovando il bersaglio grosso davvero per pochi centimetri avete rivisto mentre le nostre telecamere indugiono ancora sugli ombrelli nella tribuna scoperta per cercare di ripararsi dalla pioggia che continua a cadere battente intanto cade Antenucci non c'è fallo c'è Schiattarella Surraco ancora Schiattarella tocco a retrato per Junior Angel Ismael Da Costa che va subito a rilancio con il destro pallone profondo per Colacone non arriva di testa c'è l'uscita da parte di Guarn che può controllare dunque nulla di fatto ancora allo stadio del Conero le due formazioni che stanno confermando e attraversare comunque un momento discreto buon gioco da parte dell'Asco che sembrava essere partito bene poi l'Ancona sta prendendo in mano i redini del gioco e ha avuto tre ottime opportunità per portarsi in vantaggio Gazzola di Donato ancora Gazzola prova a scendere lui Gazzola chiuso da De Falco cade giù non c'è fallo secondo l'assistente secondo tre colori sì però allora calcio di punizione a favore dell'Asco da una posizione interessante l'assistente l'ha lasciato proseguire l'arbitro invece ha subito fermato il gioco stiamo rivedendo l'intervento falloso che effettivamente c'era di De Falco su Gazzola è impedito di tornare indietro sui suoi passi punizione a favore dei Bianconeri è pronto Simone Pesce ad andare all'esecuzione con il suo sinistro mischi in aria sono cinque uomini dell'Ascoli pronti a saltare è pronto Pesce si attende solo il fischio da parte di Matteo Trefoloni ecco che parte Pesce con il sinistro pallone che spiove nel mezzo la respinta da parte di Cosenza poi prova ad uscire Mastronunzio il controllo non è dei migliori riesce comunque ad arpionare il pallone poi lo ferma però Luci attenzione può distenderselo l'asco il tocco centrale per Antenucci ancora vuole il pallone di torno per Luci troppo corto questa chiusura di triangolo c'è la buona uscita di Cosenza ora Catinali De Falco l'avanzata di Zavagno il difensore argentino serve il suo connazionale Mire Montes pallone centrale la chiusura di Micolucci ora Luci controlla con il petto c'è il pressing di Colacone Luci rimane in possesso palla scambia con Gian Lombardo subito rilancio in profondità il netto anticipo cristante sul Lupoli ora di Donato Pesce sovrappone il solito Gazzola eccolo servito avanza ancora Alex Avellino e Catania prova ad andarsene anche a Savagno che lo chiude ancora Gazzola riesce a tornare in possesso del pallone attenzione zona cross può mettere nel mezzo pallone che spiove Lupoli che non arriva davvero di pochissimo ottimo questa azione personale di Gazzola ottimo anche il cross e Lupoli che se non erro ha colpito il pallone di testa ma non in maniera efficace stiamo rivedendo in pratica Cosenza ha sfiorato il pallone di quel tanto da impedire a Lupoli di essere più preciso nella sua deviazione di testa ha colpito sul pallone ma non è riuscito ad indirizzarlo verso la porta di Da Costa Da Costa che è pronto a rilancio Mastro Anunzio l'anticipo da parte di Silvestri arriva poi Catinali Cristante ancora Catinali ora De Falco in seguito riesce a vincere il contrasto con Pesce allora Miramontes si accentra palla al piede ora con il sinistro buono lo scambio con Colacone attenzione il pallone a destra troppo lungo però per Surraco sfuma questa azione d'attacco dell'Ancona che sembra comunque amere a disposizione il pallino del gioco cerca di fare la partita Lascoli invece sempre pericoloso comunque nelle sue ripartenze con il bomber Antenucci ben assistito da Lupoli che appare essere in giornata Nicolucci guarda Gazzola si affrontano il quarto attacchio del campionato quello dell'Ancona contro il quinto che è quello dell'Ascoli effettivamente 48 gol realizzati dall'Ancona 46 dall'Ascoli Gian Lombardo ora Amoroso pallone per Luci si fa vedere il solito Gazzola a destra Luci ora ancora in fase difensiva Ascoli che prova ad impostare Amoroso buone pallone per Pesce profondità attenzione Antenucci Antenucci se ne vanno a costa Antenucci in rete il vantaggio dell'Ascoli al 25esimo minuto con Mirko Antenucci al gol numero 21 in questo campionato splendida azione della squadra ascolana con Pesce che ha visto il taglio giusto di Antenucci in profondità freddezza di Antenucci nello scartare da Costa e nel mettere il pallone in rete vantaggio dell'Ascoli al 25esimo esatto gol numero 21 per Mirko Antenucci splendidamente servito da Pesce festeggiano i sostentori ascolani ne hanno ben donde si sa il gol nel derby vale doppio Antenucci tra l'altro un gol dell'ex per lui così come l'ha realizzato l'andata nel momentaneo fareggio va a realizzare il timbro numero 21 in questo campionato Mirko Antenucci attaccante di Termo sta arrivando all'azione Amoroso quindi il filtrante perfetto di Pesce non è in posizione regolare Antenucci che scarta con molta freddezza da Costa e deposita il pallone in rete raso terra in diagonale è gol del vantaggio 1-0 a favore dell'Ascoli ora la partita si fa sempre più interessante i festeggiamenti dei suoi compagni alcuni fumogini che ora piovono dal settore la curva sud riservata ai sostenitori dell'Ascoli che stanno ancora festeggiando il gol di Antenucci un gol pesante veramente importante per lui anche e soprattutto per la classifica il cannoniere a quota 21 tanto un petardo che viene fatto esplodere sempre dalla curva dei sostenitori a Scolani sapete che il cannoniere da serie B viniglia a quota 24 infortunato ne avrà ancora per un mese Antenucci proverà a rincorrerelo così come Mastro Nunzo che a quota 19 fallito però lo ricorderete l'ultimo impegno casalico con Crotone un calcio di rigore attenzione la reazione da parte dell'Ancona c'è Micolucci che protegge e rilancia nella zona di Luci poi la chiusura ma riconquista palla ancora Lascoli con Di Donato il tocco a destra per Ragazzola è rimasto a terra però Di Donato c'è intervento falloso e ammunizione ammunito anche il giocatore dell'Ancona si tratta di Sabagno che va ad aggiungersi a Giallombardo per l'intervento falloso su Di Donato quindi ammunizione anche nell'Ancona non era difilato Sabagno nessun problema per il prossimo impegno ricordo a Modena l'Ancona giocherà sabato 24 alle 15.30 contro il Sassuolo mentre l'Ascoli riceverà in casa lo stesso giorno alla stessa ora il Piacenza calcio di punizione Ascoli ma al 25esimo la squadra marchigiana la squadra picena è passata in vantaggio con il ventunesimo gol di Mirko Antenucci il lancio di Silvestri profondità troppo lungo per tutti c'è Da Costa che protegge l'Ancona ora è chiamata a reagire dopo essere passata in svantaggio per la terza volta consecutiva di fronte ai propri sostenitori quello che era un vero e proprio fortino con ben 11 vittorie e 4 pareggi negli ultimi tempi sta diventando un po' negativo per la squadra allenata da Savioni Catinali la reazione da parte di Biancorossi ecco Miramontes prova ad andarsi tra due avversari non vi riesce ma rimane in attacco con Savagno ora De Falco il lancio in profondità tagliare il campo a destra per Surraco è buono controlla l'uruguaiano vuole schiattarella a sostegno ecco il pallone per lui ancora l'esterno fermato da Luci ancora Surraco arriva in anticipo su Lupoli commette fallo quest'ultimo calcio di punizione a favore dell'Ancona netto anticipo di Surraco su Lupoli che è stato costretto a commettere fallo stiamo rivedendo l'intervento netto falloso di Lupoli su Surraco giusta la concessione del calcio di punizione a favore dell'Ancona è pronto il solito sinistro di Mattias Miramontes ecco Mastronunzio assieme ai suoi compagni parte Miramontes con il sinistro è basso però all'interno dell'area di rigore spazza via Antenucci in ripiegamento difensivo sventrano i vessilli della formazione bianconera in curva sud Miramontes pallone che spiove nel mezzo respinto da parte di Micolucci arriva poi il colpo di testa di Schiattarella Cosenza spinto sin avanti attenzione Mastronunzio prova a servire Catinali tocco con l'esterno a cercare Colacone si alza poi la bandiera dell'assistente Colacone va comunque alla conclusione Guarna respinge con i piedi calcio di punizione a favore dell'Ascoli offside di Roberto Colacone sul lancio di prima attenzione d'esterno da parte di Catinali prova a ripartire Gazzola Luci lo scambio corto con Di Donato ancora Gazzola vicino a lui c'è Pesce prova ad andarsene è chiuso bene però tra due avversari poi Pesce tra sempre la maglia Miramontes lascia proseguire tre coloni intervento scivolato da parte ancora di Luci ma è lo stesso Miramontes che prova ad andarsene tra due avversari rimane in possesso Palla Lascoli ora con Pesce esce ora l'esterno di Latina profondità verso Antenucci l'anticipo da parte di Cristante attenzione forse gioco pericoloso intervento falloso e ammunizione anche per Cristante quindi ammunito Cristante per questo anticipo un po' ruvido su Antenucci ammunizione anche per l'ex Piacenza e Mantua dell'intervento falloso che stiamo rivedendo ai danni di Antenucci letteralmente franato addosso al giocatore di Termoli giusta la concessione anche in questo caso del calcio di munizione a favore dell'Ascoli e ammunizione anche per Cristante eccolo qua Filippo Cristante che si rialza comunque prontamente giocatore di San Vito al tagliamento classe 77 per lui la trentunesima presenza ex Messina Mantua a Piacenza punizione a favore dell'Ascoli pronto Vittorio Nicolucci tocco a destra per Gazzola profondità cercare Pesce di prima attenzione per Antenucci attenzione Antenucci se ne va bene in dribbling ha spazio di fronte a sé può scendere come ha ancora Antenucci pallone che spiova secondo palo non ci sono però compagni allora può ripartire Lancona a destra con il Surraco sovrappone subito Schiattarella a grandi falcate Surraco ha spazio di fronte a sé si ferma però osserva il piazzamento dei compagni ancora Surraco questa volta vuole tagliare il campo lo fa male però Gazzola respinge poi Miramontes sul colpo di testa ma ancora Gazzola può spingere in avanti per la prima formazione si ferma ora osserva i compagni e vuole ricominciare da Di Donato arretrato per Silvestri cambia gioco a sinistra per Giallombardo profondità Amoroso in controtempo meglio in netto anticipo Catinali non c'è fallo secondo Trefoloni allora Lucci prova a gestire questo pallone la profondità per Lupoli Amoroso profondità anche qui Pesce osserva il piazzamento dei compagni questa volta Antenucci è scattato a sinistra in un episodio che era simile al gol del vantaggio dell'Ascoli con l'assist di Pesce in profondità Antenucci però non è scattato a destra questa volta ma a sinistra quindi pallone Vano per gli avanti bianconeri prova a ripartire Schiattarella lo scambio con Surraco ancora Schiattarella Cristante a sinistra c'è l'argentino Savagno riceve quindi De Falco profondità Colacone si gira bene Colacone subito chiuso da Luci vuole l'assistenza di Miramontes zona cross pallone che spiove attenzione nel mezzo Colacone è andato al colpo di testa con Guarna che ha controllato però in presa bassa la risposta dell'Ancona al minuto 32 targata Roberto Colacone perfetto il tracciante di Miramontes perfetta anche la scelta di tempo di Colacone in anticipo sul diretto avversario riuscito a colpire di testa ma buono intervento di Guarna ora Cristante in anticipo sul Lupoli regala però di fatto il pallone la terza linea a Scolana che prova a ricominciare con Silvestri subito la profondità Lupoli controllo con il petto un po' difficoltoso arriva De Falco quindi Savagno quindi Catinale preferisce ricominciare da Cosenza Schiattarella sembra che Schiattarella si sia già accordato con il Livorno per un contratto triennale deve essere ratificato già si comincia a parlare del prossimo mercato estivo intanto Surraco se ne va bene a luci vuole la profondità lo scambio ancora di Surraco Silvestri fermato ma c'è fallo sull'uruguaiano e questa è una posizione davvero molto interessante a favore dell'Ancona si lamentano i giocatori dell'Ascoli episodio sicuramente da rivedere intanto vedete che Di Donato ha qualcosa da dire stiamo rivedendo anche Surraco il doppio scambio c'è l'intervento falloso da parte di Donato su Colacone giusta la concessione del calcio di punizione stiamo rivedendo tocco netto sulla gamba di Colacone da parte di Donato ed è una punizione da una posizione ottima per il sinistro di Mattias Miramontes che da quel punto ha già dimostrato di saper far male in altre occasioni c'è la barriera da parte dei giocatori Ascolani predisposta da Guarna tutti gli effettivi dell'Ascoli praticamente nella propria area di rigore Miramontes vicino a Catinali per la concertazione di questo calcio piazzato tutto quasi pronto barriera formata Catinali probabilmente toccherà per Miramontes che prende la sua singolare l'incorsa c'è il fischio da parte di Trefoloni parte Miramontes con il sinistro Guarna che mette il pallone in calcio d'angolo e Miramontes lo avevamo detto da quella posizione è sempre molto pericoloso al sinistro caldo e Guarna ha dimostrato di scaldare anche lui i guantoni mettendo in calcio d'angolo nuovo corner a favore dell'Ancona ancora Miramontes è pronto all'esecuzione l'argentino sul palo c'è amoroso parte Miramontes pallone che spiove nel mezzo Guarna questa volta controlla sicuro troppo sul portiere la traiettoria calciata del pallone calciato da Miramontes mentre stiamo rivedendo la sua punizione con i guantoni a girare sul palo inverso rispetto a quello del portiere Guarna ha messo il pallone in calcio d'angolo ora in diretta Cazzola profondità per Pesce lo scambio centralmente per Luci amoroso ancora profondità il tocco per Antenucci amoroso si propone ancora Pesce amoroso gira ora tutto a destra per Gazzola avanza per la piede Gazzola poi si ferma quindi Didonato il traversone nel mezzo per Antenucci la chiusura da parte di Cosenza prova ad uscire l'Ancona c'è il pressing molto alto di Didonato su Catinali questa volta c'è anche un fallo probabilmente su Catinali l'adidro lascia proseguire per il vantaggio Cristante taglia orizzontalmente per Schiattarella controllo con il petto in corsa profondità buona questa incursione per Colacone Colacone però fermato da Didonato in maniera regolare secondo Trecoloni si riparte allora la profondità ancora per Lupoli lo scambio corto Corna e Pesce avanza grandi falcate Pesce c'è Antenucci spostato a destra Amoroso a sinistra centralmente è andato Lupoli ora il tocco per Amoroso ancora l'ex Fiorentino lo scambio con un centrocampista invece di Piombino Toscano Luci vuole la profondità Lupoli 1-2 ancora con Antenucci attenzione limite dell'aria Antenucci fermato ancora Antenucci c'è la chiusura però da parte di Catinali e quindi da Costa 36esimo nel corso del primo tempo ancora 0 Ascoli 1 il vantaggio silato da Antenucci al 25esimo del primo tempo pronto da Costa la profondità cercare Colacone Micolucci in anticipo non riesce ad evitare il fallo laterale in zona d'attacco a favore di Biancorossi ecco Surraco Schiattarella Catinali De Falco ancora Schiattarella centralmente per Colacone vuole ricominciare da De Falco coinvolge a sinistra anche l'argentino Savagno quindi Miramontes pallone nel mezzo Colacone incredibile intervento da parte di Guarna che riesce a mettere ancora il pallone in calcio d'angolo ma questa volta l'Ancona è andata davvero vicinissima al pareggio ancora con un sinistro di Miramontes ancora colpo di testa di Colacone splendido intervento plastico di Guarna con la mano destra a mettere il pallone in calcio d'angolo che bella sia l'azione che la risposta da parte di Guarna calcio d'angolo a favore dell'Ancona è pronto Miramontes lo batte corto per Surraco tocco di ritorno ancora Miramontes pallone che spiova nel mezzo lo schiora quasi Micolucci Guarna in buona posizione riesce comunque a farlo suo in presa ottimi interventi di Guarna soprattutto l'ultimo l'ultima circostanza letteralmente volato il portiere calabrese per mettere in calcio d'angolo il colpo di testa di Colacone dopo perfetto assist nemmeno a dirlo Miramontes sicuramente tra i più attivi in questo primo tempo il rilancio di Silvestri nella zona di Antenucci attenzione sono già sull'altra fronte c'è Cristante che anticipa poi il contrasto tra Lupoli e Savagno l'ultimo tocco dell'argentino rimessa con le mani questa volta in zona d'attacco a favore dell'Ascoli pronto Marcello Gazzola Lupoli ancora Gazzola tocco per Rappesce prova ad entrare poi scambia ancora con Didonato a destra c'è Gazzola che può ricevere zona cross traversone nel mezzo attenzione stacca Lupoli non arriva però allora può ripartire l'Ancona che ha spazio con il tandem di destra Schiattarella su Raco è conservito l'Uruguayano ancora Schiattarella che questa volta si è centrato vuole la profondità per Mastro Nunzio la chiusura da parte di Micolucci ma rimane comunque in possesso palla l'Ancona con Edoardo Catinali il centrocampista Campano taglia il campo a sinistra per Savagno l'Ascoli va tutto ripiegamento difensivo eccezione fatta per Lupoli vuole lo scambio con Miramontes c'è ancora Savagno che si sovrappone ora si ferma Miramontes prova il tocco con l'esterno in Colacone che si gira stava quasi per favorire il compagno poi c'è la chiusura da parte della difesa dell'Ascolana con tanto di rinvio di Guarn Cristante Lupoli riesce a fermarlo provvisoriamente rimessa con le mani a favore dell'Ancona Miramontes si gira ancora ottimamente l'argentino poi c'è Gazzola che interviene in maniera regolare secondo Trecoloni prova a ripartire l'Ascoli Antenucci controllo in corsa si propone Lupoli lo scatto da parte di Lupoli il pallone gestito con il petto troppo lungo però per tutti da Costa legge bene la situazione rilancia subito in avanti nella zona di Mastronunzo Silvestri in chiusura poi di Donato quindi Luci tocco a destra per Rappesce autore dell'assist per il gol di Antenucci ora il pallone in profondità per Lupoli chiusura da parte di Cosenza allora Catinani Taglia il campo questa volta a sinistra Miramontes profondità con la cone il tocco di prima attenzione Mastronunzio si era già alzata la patina dell'assistente quindi calcio di punizione in difesa a favore dell'Ascoli per la situazione di fuori gioco da parte di Mastronunzio questo è un episodio sicuramente da rivedere pronti subito accontentati da questa angolazione non possiamo essere categorici comunque sia sembrava che Mastronunzio fosse oltre la linea difensiva poi Micolucci commette fallo su Mastronunzio ma il gioco era già stato fermato punizione a favore dell'Ascoli guarna la profondità a cercare Antenucci chiusura da parte di Savagno c'è Pesce poi arriva anche Miramontes prova ad andarsene Pesce però la meglio la chiusura questa volta è di Savagno la rimessa sarà a favore dei bianconeri di Pilon 5 minuti al termine del primo tempo più eventuale recupero 1-0 Ascoli sta decidendo un gol al venticinquesimo realizzato da Antenucci c'è stata la reazione da parte dell'Ancona che ha avuto alcune ottime opportunità sugli scudi guarna soprattutto sul colpo di testa di Colacone qualche minuto fa Catinale è sempre un Ascoli che ogni volta che attacca comunque dimostra di rendersi pericoloso con i traccianti verticali di Pesce Amoroso attenzione intanto Mastro Anunzio posizione regolare Mastro Anunzio in aria Mastro Anunzio guarna ancora una volta dice no ancora una volta la risposta da parte di Guarna occasionissima da parte dell'Ancona minuto 41 Mastro Anunzio ha controllato solo davanti a Guarna che però gli ha chiuso lo specchio della porta in maniera sicuramente provvidenziale mettendo il pallone in calcio d'angolo stiamo rivedendo poteva far tutto Mastro Anunzio da quella posizione ma Guarna ha chiuso ancora una volta splendidamente lo specchio della porta guarda che tra l'altro è un ex attenzione calcio d'angolo De Falco pallone che spiova nel mezzo Cosenza con l'attraverso Clamorosa con Antenucci che esce palla al piede incredibile incredibile opportunità ancora una volta per l'Ancona che è anche sfortunata come in questa circostanza c'è la cosa da parte di Antenucci rimessa con le mani il pallone di Dorici rimasto a terra nel frattempo allora Trepoloni ferma il gioco va a sincerarsi le sue condizioni ma l'Ancona ha avuto due opportunità colossali per pareggiare la prima con Mastro Anunzio vedete Pilon che va anche a raccomandare di star calmo a Pilon scusa Trepoloni che va a raccomandare di star calmo a Pilon partita sicuramente emozionante ancora che ha avuto due opportunità davvero importantissime per provare il gol del pareggio nella seconda è stata anche sfortunata per il colpo di testa di Cosenza ha trovato prima la risposta di Amorosa e poi la traversa dire di no rimane in attacco la squadra d'Orica che vuole il pareggio prima della fine del primo tempo e Cosenza lo scambio con De Falco il tocco a sinistra per Savagno la chiusura subito da parte di Pesce si agisce ancora per via orizzontali catinali profondità ancora Mitamontes vuole Mastro Anunzio c'è la chiusura da parte di Silvestri ma rimane in attacco l'Ancona controllo con il petto da parte di De Falco ancora la profondità verso Colacone prova a destreggiarsi Colacone viene fermato da Lidonato che cade giù subisce fallo dallo stesso Colacone la rimessa e calce di rinunzione a prova dell'Ascoli si lamenta Colacone perché dice all'arbitro che probabilmente c'era un fallo su lui in precedenza poi però il contatto paloso c'è tutto stava rivedendo Cosenza che sventa Imperioso Amoroso respinge con la collaborazione della traversa il pallone che sarebbe andato sicuramente in rete poi Antenucci che spazza via stava rivedendo ancora una volta sarebbe da fermare l'immagine da quel punto sembra che comunque il pallone non fosse assolutamente entrato intanto Surraco il tocco a destra per Schiattarella ancora la profondità attenzione Colacone poi Micolucci netto vantaggio serve Guarno che va al rinvio direttamente in pallo laterale ora Ascol con il pallone rimessa con le mani Ancona Schiattarella 1-2 con Surraco prova ad andarsene Giallombardo che ferma il pallone con le mani secondo l'assistente allora c'è calcio di punizione a favore dell'Ancona Trefoloni anche in questo caso dà il calcio di punizione Piloni lo vedete davvero tarantolato un pochino non riesce a star fermo vedete che Trefoloni va con precisione a far vedere qual è il punto di battuta esatto di questo calcio di punizione siamo a quasi lo scadere del primo tempo 43 minuti nel corso della prima frazione Ancona vicinissima al gol del pareggio calcio di punizione con Mattias Miramontes pronto ancora con il suo sinistro in aria tutti Mastro Nunzio cristante c'è anche Colacone Cosenza parte Miramontes pallone troppo su Guarna che poi non si fida della presa istantanea e controlla in due tempi un po' troppo sul portiere in questo caso la traiettoria tracciata da Miramontes pronto Guarna ad andare al rinvio lungo pallone in zona Antenucci c'è Cosenza che chiude allora Miramontes può ripartire questa volta centrale sbaglia però il tocco in approccio allora prova a ripartire Rascoli con Pesce sbagliato anche il suo tocco Amoroso riesce a recuperare Gian Lombardi di Donato buono questo pallone in profondità per Luci che ora spazia da Fanta Se attenzione Luci il tocco a sinistra per Amoroso che prova a scendere posizione di Ala se ne va Amoroso supera nel dribbling Schiattarella ancora Amoroso tra due avversari viene richiuso ancora raddoppiato meglio da Schiattarella che rinquista il pallone non ci sono però compagni vicini pronti allo scatto allora si agisce orizzontalmente Catinale ancora l'imbeccata per Savagna è però imprecisa regala di fatto il pallone a Gazzola di Donato ancora Gazzola profondità per Lupoli che ha spazio per girarsi ancora Lupoli ecco Gazzola che viaggia ancora come un treno il settore destro rimasto a terra Schiattarella attenzione Gazzola prova a mettere nel mezzo traversone basso c'è Cristante che mette il pallone in calcio d'angolo Schiattarella rimasto a terra vedete anche le nostre telecamere indugiano su Pasquale Schiattarella a 5 centri in questo campionato centrocampista di Mugnano cresciuto nel settore giovanile del Torino Trepoloni chiama in campo i sanitari per prestare le cure del caso a Pasquale Schiattarella un'ancona che negli ultimi minuti ha preso in mano il palino del gioco e ha avuto ottime chance per trovare il gol del pareggio è stata anche sfortunata soprattutto nel colpo di testa di Cosenza che ha trovato prima Moroso poi la traversa a respingere in precedenza era stata invece grande guarna in due circostanze a dire di no a Mastro Menzio e a Colacone attenzione a Moroso con il sinistro pallone che spiove nel mezzo Silvestri si è alziata però la banione dell'assistente era in posizione irregolare difensore ex Catania e allora calcio di punizione calcio di rinvio a favore dell'Ancona un minuto di recupero dunque iniziato da 30 secondi ecco Cosenza sono già in zona recupero schiattarenna pallone in profondità Colacone di testa per Mastro Menzio questa volta c'è mancanza di sincronismo a livello di tempi e allora il pallone arriva dalle parti di guarda ultimi spiccioli ultimi secondi di questo primo tempo Micolucci profondità verso Antenucci controllo in corsa due subito su di lui Antenucci allora ottiene la collaborazione di Amoroso ed ecco il duplice fischio da parte di Trefaloni che manda le squadre Scoletoi alla fine del primo tempo Ascoli in vantaggio per 1-0 il gol realizzato da Antenucci al venticinquesimo con una splendida azione concertata prima da Amoroso poi da Pesce l'assist per il gol dell'1-0 super spot dunque dicevamo 1-0 1-0 a favore dell'Ascoli al termine del primo tempo un Ascoli che ha colpito in maniera molto cinica con Antenucci autore del gol numero 21 in questo campionato poi c'è stata la reazione da parte dell'Ancona che ha risposto ha colpito anche un attraverso tutto l'Ascoli nell'Ancona Mastronunzio da Costa De Falco cerchiamo anche di scorgere se evidentemente sono stati avvicendamenti di sorta l'Ancona che è sotto di un gol ma l'Ancona che non ha assolutamente demeritato a fine del primo tempo ha avuto le sue buone chance se c'è un demerito da sottolineare l'Ancona per aver sfruttato la grande quantità di palle e gol che ha avuto di fronte invece al cinismo dell'Ascoli che con Antenucci ha colpito per il gol di 1-0 stava per farlo dopo alcune 50 secondi dopo la splendida semi rovesciata che ha colpito il palo è un Antenucci che sta conformando quanto di buono ha fatto dire di sé nel corso di questo campionato sembrano tutti in campo allora anche per la disputa di questo secondo tempo andiamo allora a ripetere velocemente le formazioni delle due squadre a cominciare dall'Ascoli che schiera Guarna in porta Gazzola Silvestri Micolucci Giallombardo in difesa Pesce Luci Di Donato Amoroso centro campo Antenucci e Lupoli di punta esponde l'Ancona con Da Costa in porta Schiattarella Cosenza Cristante Savagno in difesa Sorrago Gardenali di palco Milamonti sul centro campo Mastro Nunzio e Colacone di punta siamo pronti siete pronti anche voi si ricomincia allora per il secondo tempo di Ancona Ascoli si riparte dall'1 a 0 a favore della squadra bianconera grazie al gol di Antenucci al venticinquesimo un'ultima occhiata di Trefoloni ai suoi collaboratori tutto sembra allora veramente pronto per l'inizio del secondo tempo di Ancona Ascoli si parte è l'Ascoli che gestisce il possesso del pallone con Luci il tocco a sinistra per Gian Lombardo subito il pressing alto da parte dell'Ancona allora orizzontalmente questo pallone per Silvestri Gazzola verticale per Pesce che gira senza guardare verso Lupoli chiusura però da parte di Catinano allora il rinvio da parte di Cristante Silvestri in anticipo di Donato ora Luci può impostare centrocampista di Piombino nipote di Aldo Agroppi lo scambio con Amoroso tocco a sinistra per l'avanzata da parte di Gian Lombardo avanza ancora palla al piede zona cross pallone che spiove nel mezzo non ci sono però compagni sul secondo palo c'è Savagno ma c'è in anticipo Pesce che riesce ad evitare il fallo laterale prova a rimanere in attacco Lascoli ancora con Simone Pesce si propone Gazzola Pesce punta Savagno poi Traversone nel mezzo anche qui troppo lungo per tutti difetto Schiattarella con calma olimpica per l'estremo difensore da Costa che controlla vuole ricominciare ancora da Schiattarella viene fermato Schiattarella allora Didonato amoroso ancora Schiattarella Catinale profondità attenzione Colacone ha spazio può avanzare ancora Colacone palla al piede il tocco la chiusura da parte della difesa dell'Ascoli non c'è fuori gioco si lamentavano i difensori della formazione bianconera ma l'arbitro è stato di diverso avviso ora prova ad uscire la squadra di Pillon a controtempo di questo pallone di Antenucci per Gazzola rimessa con le mani a favore dell'Ancona che prova ora a stringere i tempi Colacone nelle vesti di Ala lo scambio con Miramontes punta l'avversario ancora Miramontes il traversone smorzato arriva comunque dalla parte di Guarna che controlla tranquillamente in presa bassa nulla di fatto Luci ha ricevuto da Giallombardo perde questo pallone poteva essere pericoloso ancora Luci quindi Giallombardo da due avversari cade giù intervento falloso secondo l'assistente da parte di Catinali allora calcio di punizione a favore dell'Ascoli ecco la curva dell'Ancona che sta tentando di incitare i suoi beniamini punizione a favore stiamo vedendo anche su questo sottofondo della panchina di Salvioni è pronto Guarna ad eseguire pallone profondo nella zona di Lupoli arriva l'anticipo da parte di Cosenza sarà ancora rimessa con le mani questa volta a favore dell'Ascoli Giallombardo anticipato Lupoli allora schiattarella cristante da Costa subito il rilancio profondo di da Costa pallone che arriva dalle parti di Miramontes che vince il contrasto attenzione Miramontes ha spazio di fronte a sé ancora l'argentino pallone nel mezzo la chiusura providenziale da parte di Luci stava per inserirsi Colacone prova ad uscire anche Gazzola intervento falloso di Savagno c'è calcio di punizione e ammunizione attenzione per Savagno rosso secondo cartellino giallo per Savagno e c'è l'espulsione da parte dell'argentino era già stato ammunito Raffaele Savagno e dunque fuori dal campo ancora che dovrà giocare in inferiorità di punteggio sotto di 1 a 0 e sotto anche di un uomo praticamente per quasi tutto il secondo tempo intervento stiamo rivedendo di Savagno l'intervento d'ammunizione c'è la norma di regolamento doppia munizione espulsione un po' ingenuo il giocatore argentino calcio di punizione e Ancona in 10 contro 11 calcio di punizione a favore dell'Ascoli in fase difensiva vedremo quali saranno gli accorgimenti tattici da parte di Salvioni probabilmente Surraco è stato spostato a destra come terzino Schiattarella va a farlo a sinistra quindi Surraco e Schiattarella sono gli esterni Mastronunzio e Colacone rimangono di punta di fatto toglie un centrocampista in questo caso Salvio tanto guarna sul pressing di Mastronunzio va allo rilancio lungo Amoroso controlla il pallone attenzione ancora Amoroso avanza palla al piede a spazio di fronte a sé Amoroso tocca a sinistra Ferran Tenucci posizione regolare Biala però il problema di girarsi ancora Tenucci prova a puntare l'uomo è Surraco che è ripiegato in fase difensiva lo scambio con Luci poi Giallombardo 1-2 ancora Giallombardo zona cross pallone basso nel mezzo Lupoli non arriva ancora Lupoli non è finita prova ad insistere Lascoli in fase d'attacco lo scambio arretrato con Luci carica il destro la finta con il destro poi pallone ancora in profondità fermato arriva ancora Luci prova ad incunearsi sinistro da Costa in due tempi la risposta da parte dell'Ascoli minuto quinto nel corso del secondo tempo 1-0 Ascoli ma soprattutto da due minuti a questa parte l'Ancona è in 10 per espulsione da parte di Savagna doppia munizione per lui ingenuità anche da parte del giocatore argentino che già a monito è andato a commettere un fallo per l'ammunizione da parte di tre palloni sbaglia nel frattempo Gazzola attenzione a Miramontes prova ad accentrarsi l'argentino vuole lo scambio con Colacone ancora Miramontes pallone leggermente in controtempo arriva poi De Falco il tocco a destra per l'avanzata da parte di Surraco profondità Colacone prova a girarsi attenzione ancora Colacone lo scambio con Mastro Nunzio vuole girarsi sinistro di Miramontes con pallone che termine direttamente sul fondo nonostante tutto l'Ancona ci crede l'Ancona vuole insistere nonostante l'autorità numerica vuole certamente cercare di trovare il gol del pareggio stiamo rivedendo questa iniziativa di Mastro Nunzio che ha protetto splendidamente il pallone ha servito per Miramontes il sinistro volante con pallone che però si è perso sul fondo è pronto Guarna ad andare al rinvio partita subito iniziata nel clima derby già con un'espulsione già con l'Ancona che ha provato comunque a gettarsi a capofitto anche questo secondo tempo nonostante l'inverità numerica ecco Colacone che controlla la sfera si propone anche Catinali si ferma Colacone per la chiusura da parte del giocatore dell'Ascoli ancora Colacone profondità verso Mastro Nunzio si alza la bandiera dell'assistente e allora gioco fermo posizione irregolare di Mastro Nunzio ma da rivedere sicuramente al replay su questo un beccato un beccato da parte di Catinali si alza da subito la bandiera l'assistente calcio punizione in difesa a favore dell'Ascoli eccolo inquadrato l'assistente del dittoratore di Gara Masotti tanta punizione a favore dell'Ascoli già battuta il lavoro di Didonato Catinali rimane comunque molto alto prova a gestire il possesso palla l'Ascoli Giallombardo profondità e controllo con il petto di Antenucci vuole andarsene viene fermato da Cosenza la rimessa con le mani comunque a favore dei bianconeri che provano ora a gestire il possesso palla a cercare di frenare comunque le avanzate dell'Ancona spinte anche dal nervosismo di aver perso un uomo per doppia munizione come Savagno attenzione ora Lupoli prova ad incunearsi tra le linee se ne va Lupoli cade giù non c'è fallo secondo Trefoloni allora si prosegue Cosenza lo scambio con De Falco grande intensità in campo su Raco ancora Catinali attenzione al pressing da parte di Antenucci comunque il pallone arriva dalle parti di Cristante e ora Schiattarella che come già detto si è spostato a sinistra dopo l'espulsione di Savagno quindi è lui che ricopre il ruolo dell'argentino attenzione a Catinali prova a cercare spazio al centro campo Schiattarella si propone Catinali invece preferisce il lato inverso ecco lo scambio con Colacone tra due avversari ancora Colacone vuole l'assistenza di De Falco ecco lo che lo trova su Raco si propone a destra però spazi chiusi allora De Falco torna sui passi ecco lo scambio con Miramontes il controllo non è dei migliori comunque Miramontes riesce a superare un avversario non è il secondo in grado di Gazzola non c'è fallo si lamentano i sostenitori dell'Ancona prova a ripartire Lascoli con Pesce fermato però attenzione al break da parte di Catinali il tocco con l'esterno pallone centrale per Colacone arriva poi Giallombardo provvidenziale in questo caso un ripiegamento difensivo ma era stato molto ingenuo Pesce a perdere un pallone da quella zona che poteva risultare fatale poi il recupero da parte di Giallombardo splendido l'esterno di Catinali Colacone apprestava a controllare la sfera per poi calciare in rete ma è stata la chiusura di Giallombardo ad evitare tutto ciò ora in diretta Lascoli prova a riproporsi in fase offensiva con Amoroso lo scambio con Didonato quindi Luci gira a memoria a destra per l'avanzata di Gazzola vicino a lui ad assisterlo c'è Pesce che riceve ancora Gazzola si sovrappone Pesce prova ad accentrarsi avanza palla al piede supera un uomo in dribbling ancora Pesce attenzione Pesce prova a cercare spazio per il sinistro sbaglia tutto però allora Lancona prova a ripartire grande generosità da parte dei Dorici nonostante la priorità numerica ecco De Falco il tocco a sinistra per Schiattarella che ora è in posizione di ala avanzata avanza ancora il giocatore di Mugnano centralmente per De Falco si propone anche sul Raco De Falco ha spazio vuole la profondità ecco Schiattarella in posizione regolare attenzione Schiattarella controlla male ma ancora lì prova il destro respinta da parte di Silvestri poi scambia Silvestri con Pesce prova a ripartire Lascoli lo fa per la maniera bassa vuole gestire il possesso palla non vuole accelerare ora la squadra di Pillo Luci di Donato vedete chiaro l'intento della formazione bianconera di abbassare i ritmi della contesa Gazzola perde però questo pallone in maniera futile Miramontes si prosegue per il vantaggio poi Gazzola comunque fa segno di averlo visto attenzione a questo pallone in profondità scivola poi al momento di entrare in aria Mastro Nunzio splendido il pallone dato per lui intanto Gazzola in possesso palla sicuramente quando si ferma il gioco verrà ammonito per l'intervento precedente è trattenuta su Miramontes quindi ci sarà anche la munizione per Gazzola intanto gestisce il pallone Lascoli ancora con Amoroso vi ricordo Ancona in 10 contro 11 sotto di un gol espulsione di Savagno al terzo minuto del corso del secondo tempo Luci Di Donato profondità Lupoli gestisce il pallone lo scambio ancora con Di Donato Pesce è libero a destra Di Donato preferisce andare da solo avanza ancora nel palcato ecco il tocco per Pesce posizione regolare ancora Pesce è un sinistro naturale prova a mettersi il pallone sul sinistro traversone sul secondo palo scatta Lupoli fermato Antenucci attenzione in aria ancora Lupoli il sinistro fermato però dall'uscita da parte di Cosenza ancora Cosenza ancora prova a trasformare l'azione offensiva profondità verso Mastronunzio cade giù Mastronunzio c'è fallo calcio di punizione a favore dell'Ancona Trefoloni va a ricordarsi poi di aver di aver ammonire Gazzola intanto vedete Cosenza c'è il nervosismo ora in casa Ancona chiama a sé Gazzola con tutta probabilità Trefoloni e lo va ad ammonire per il fallo precedente vedete fa chiaro riferimento all'azione precedente su Miramont ammonizione dunque anche per Gazzola che era tra i diffidati dunque Gazzola salterà il prossimo impegno dell'Ascola di sabato 24 in casa contro il Piacenza dunque si riprenderà con un calcio di punizione a favore dell'Ancona ammonizione per Gazzola in pratica il quinto ammonito considerate anche le due di Savagno che poi è stato espulso questa è la trattenuta di Gazzola per la maglia su Miramontes l'arbitro lo ha ammonito poi successivamente Schiettarella fermato da Diunato che inciampa sul pallone allora ancora Schiettarella fermato fallosamente da Pesce calcio di punizione a favore dell'Ancona ora nervosismo in campo vedete Trefoloni sono io che decido io decido che cosa devo fare primo cambio è nell'Ascoli attenzione fuori probabilmente Lupoli e dentro D'Agostino Pilon pensa a coprirsi stranamente perché toglie un attaccante come Lupoli per un centrocampista come D'Agostino nonostante la superarietà numerica dunque un cambio che praticamente a dir la verità non capiamo molto per il fatto che l'Ascoli comunque si trova in superarietà numerica Pilon toglie una punta mette un centrocampista in più un esterno come Antonino D'Agostino ex Treviso tra gli altri che Pilon ha avuto proprio a Treviso insieme a lui quando allenava la formazione Veneta intanto si è ripreso a giocare prova a spingere sul racco la profondità Mastro Nunzio il colpo di tacco non trova Colacone allora Guarna che va al controllo ecco Salvioni vediamo dove va sistemarsi D'Agostino con tutta probabilità D'Agostino amoroso e pesce a Girano dietro l'unica punta Antenucci quindi è un 4-2-3-1 quello proposto da Pilon con Amoroso sulla tre quarti tanto il colpo di destra di Cosenza attenzione può ripartire Lancona con Catinali c'è subito il pressing da parte di Donato rimasto a terra intanto nel contrasto precedente Amoroso attenzione Catinali zona cross prova a mettere nel mezzo riuscita da parte di Guarna con la mano in due tempi Guarna riesce comunque a tagliare il pallone con questa seconda presa intanto vedete che Amoroso è ancora a terra per il contrasto precedente con Cosenza la partita è sempre più scintillante a livello di emozioni a livello di nervosismo in campo vedete tra i poloni che è chiamato sicuramente a sedare possibili scintille tra i giocatori questo è l'intervento di Cosenza di la verità piuttosto rubido su Amoroso l'abito l'ha lasciato proseguire Amoroso poi ricadendo effettivamente si è fatto male ora è rimasto a terra vedete Smorfi e urla di dolore per l'ex centrocampista di Bologna e Fiorentina costretti a portare in campo la barella i sanitari gioco dunque fermo al tredicesimo minuto nel corso del secondo tempo Ascoli 1 ancora 0 gol di Antenucia con il diecinquesimo prima razione ancora in dieci uomini ma fino a questo momento non si sta vedendo questa inferiorità numerica Pilonone tra l'altro come abbiamo già detto ha effettato un cambio ha tolto Lupoli una punta per inserire D'Agostino stiamo ancora rivedendo il forte impatto fisico di Amoroso con il terreno di gioco era saltato il tentativo di colpire di testa quindi ancora maggiore distanza ancora maggiore peso su di lui speriamo che per Amoroso non sia nulla di preoccupante ne pregiudichi il proseguo della gara ecco Cosenza che intanto si ripropone in fase d'attacco la difesa dell'Ancona è a tre con Schiattarella a sinistra dicevamo invece Dell'Ascoli che avrà Antenucci come unico riferimento offensivo però assistito con tutta probabilità da Amoroso Pesce e D'Agostino D'Agostino a destra Pesce a sinistra Amoroso come centrale tre quartista dietro le punte quindi Amoroso che è ancora fuori quindi momentaneamente ristabilita la parità numerica in campo 10 contro 10 De Falco profondità Di Donato non arriva arriva allora Catinali subito in profondità cercare Colacone cade giù Colacone non c'è fallo secondo Trecoloni allora arriva Silvestri che scivola al momento di talciare di fatto regala il pallone a Lancona allora Cosenza si ripropone è rimasto a terra ancora un giocatore dell'Asco il lancio da parte di De Falco prova ad uscire Guarna attenzione poi l'uscita da parte di Guarna poi c'è Di Donato vedete che si accende una vera e propria mischia in area attenzione attenzione volano parole nervose nervosismo in campo cerchiamo di capire cosa è successo nell'episodio precedente vedete Nicolucci e Schiattarella Guarna aveva accennato un'uscita a dir poco un po' troppo con troppa fretta intanto vedete l'arbitro che chiama a sé i protagonisti della rissa precedente quindi doppia espulsione per Cosenza e Nicolucci quindi espulsi Cosenza e Nicolucci che vanno ad aggiungersi a questo punto a Savagno se ho ben capito quindi espulsione di Cosenza e Nicolucci per la rissa che poi c'è stata successivamente ha sventolato in due circostanze da pochi secondi dall'altra vedete ancora le proteste da parte dei giocatori dell'Ancone intanto gioco ancora fermo Varella in campo ancora questa volta stiamo rivedendo intanto l'azione di pochi istanti fa il lancio di De Falco Guarna che esce fuori dall'area Colacone che cade forse anche a contatto con Guarna poi gioco che prosegue a questo punto l'arbitro aveva fermato il gioco poi si accende la rissa si accende la mischia quindi cerchiamo di mettere ordine Silvestri in frattempo si è rialzato infortunato questa è l'uscita di Guarna vista anche da questa angolazione su Colacone poteva forse anche esserci l'intervento falloso su Colacone l'arbitro poi ha lasciato proseguire comandando però probabilmente un calcio punizione per l'offside precedente a quel punto è scattata tutta la rabbia di Cosenza che è andato a scagliarsi proprio con Micolucci quindi fuori Cosenza e Micolucci che sono stati espulsi vedete il parapiglia generale proprio tra Micolucci e Cosenza e vedete che l'arbitro effettua un altro cambio eh chilo scusa Lascoli effettua un altro cambio fuori Amoroso dentro Marino quindi fuori Amoroso dentro Marino che è un difensore proprietario dell'Udinese Silvestri intanto è pronto quasi a rientrare in campo ecco Marino Amoroso era già uscito fuori dal terreno per un fallo precedente è successo di tutto e di più in questi ultimi minuti qui ad Ancona Marino va a prendere di fatto il posto di Micolucci quindi la difesa torna a 4 con mentre Miramontes Miramontes esce per far spazio ad un difensore ossia Pisacane quindi ristabiliamo l'ordine Pisacane va a fare il centrale con Cristante Schiatarella e Sorrago sono gli esterni Ancona è 9 quindi è un 4-2-2 praticamente mentre Lascolo lo ricordo in 10 per l'espulsione di Micolucci ha tolto Amoroso ha inserito Marino quindi 10 contro 9 in questo finale di gara è successo di tutto di più come buon tradizione di derby si è incattivita di molto la partita due espulsioni quelle di Cosenza e Micolucci in precedenza era già stato espulso nell'Ancona Savagno quindi si gioca in 10 nell'Ascoli contro 9 dell'Ancona che di fatto operano 4-2-2 in fase difensiva Lascoli invece è tornato a 4 in difesa e di fatto gioca con un 4-3-2 ossia di Donato Luci e Pesce più arretrati Antenucci e D'Agostino più avanzati anche se Antenucci è l'unica vera punta il ruolo di Micolucci che è stato espulso è stato preso da Marino che è entrato al posto di Amoroso bene speriamo di aver fatto ordine ora entriamo finalmente a commentare di nuove azioni di gioco con Schiatarella orizzontalmente per De Falco il tocco a destra per Surraco ancora l'Ancona che avanza con l'uruguayano riesce a trovare ancora De Falco il tocco per Catinali attenzione Catinali prova a caricare il destro con pallone che termina direttamente sul fondo approvata dalla distanza Edoardo Catinali rimessa dal fondo a favore dell'Ascoli siamo al 19esimo nel corso del secondo tempo è successo di tutto in questo inizio di ripresa prima l'espulsione di Savagno poi la doppia espulsione di Cosenza e Micolucci con tanto di di rabbia in campo e speriamo che non vengano altri episodi del genere episodi di nervosismo ma di poter assistere ancora a emozioni per quanto concerne azioni offensive da una parte e dall'altra e colpo di tacco di D'Agostino per Rantenucci troppo largo rimessa con le mani Ancona in fase difensiva Cristante ora Pisacani lo ricordo è entrato al posto di Miramontes ha tolto un esterno Salvioni per ovviare la doppia espulsione anche di Cosenza necessario l'inserimento di un altro centrale difensivo per sostituire Cosenza come Pisacani Schiattarella taglia il campo per Catinali si propone a destra ancora Surraco Ascoli che rimane comunque in fase difensiva avanza palla al piede Surraco vuole la profondità Colacone controlla male poi arriva Giallombardo che riesce a chiudere in questo caso il possibile pertugio di Colacone prova a ripetere in profondità ma c'è solo Antenucci spostato a sinistra si fanno vedere anche D'Agostino a destra e Luci centrale L'Ascoli preferisce però non affondare tenere il possesso del pallone forse un po' troppo difensivistica la tattica della squadra di Pilon dopo il vantaggio soprattutto dopo il vantaggio infatti di uomini in campo Pilon ha adottato anche per l'uscita di un attaccante come Lupoli per un centrocampista come D'Agostino quando ancora si era in 11 contro 10 attenzione intanto all'azione da parte di Surraco prova il destro in aria la respinta da parte della difesa arriva Luci prova a trasformazione offensiva perde però questo pallone con De Falco allora prova ad avanzare il centrocampista Anconetano poi si accentra avanza palla al piede fermato però in questo caso da Luci allora riparte L'Ascoli con Di Donato il tocco a sinistra per Antenucci vedete però molto solo Antenucci ed è un po' un paradosso per una squadra che gioca in superiorità numerica trovarsi solo in attacco probabilmente Pilon ha inteso dare più briosità più vivacità al suo centrocampo anche la superiorità numerica nei confronti dell'Ancona Di Donato Giallombardo Ancona che invece si affida chiaramente ora in nove uomini ai lanci lunghi per tentare proprio di superare il centrocampo folto predisposto da Piloni Gazzola vuole la profondità per D'Agostino il pallone è uscito nella sua traiettoria aerea quindi sarà rimessa con le mani a favore della squadra Dorica anzi c'era probabilmente posizione irregolare perché c'è un calcio di punizione intanto c'è il pressing da parte di D'Agostino D'Agostino controlla il pallone che forse era stato sfiorato toccato da Cristante evita il calcio d'angolo ancora il brasiliano sul racco De Falco sta praticamente calcando un po' tutta la fascia sul racco sia in fase difensiva che offensiva Cristante c'è il pressing di Luci molto alto falloso secondo Trefoloni punizione Ancona Cristante schiattarella ora spostato a sinistra il tocco per Mastronunzio attenzione Mastronunzio vuole girarsi palla al piede avanza ancora Mastronunzio non trova però Varchi ricomincia allora da De Falco sul racco la profondità per Colacone attenzione in aria Colacone ha il problema di girarsi attende rinforza avanza ancora Colacone prova ad accentrarsi Colacone con il sinistro si ferma poi prova a un destro schiattarella in offside ma c'era comunque Guarna ad intercettare il pallone in presa bassa Unascoli che si sta difendendo un po' a sorpresa a dir la verità considerata la superiorità numerica Ancona che invece attacca con grande generosità nonostante sia in 9 contro 10 questo è Colacone che ha provato l'azione personale c'erano comunque due suoi compagni già in posizione di offside Guarna tocco a destra per D'Agostino la chiusura da parte di De Falco rimessa con le mani a favore dell'Ascoli tra l'altro è un derby che arriva proprio al termine di un trittico di partite in 7 giorni quindi è chiaro che giocando poi anche in 10 contro 9 può subentrare a un certo punto la stanchezza da entrambe le parti intanto Silvestri sbaglia il tocco in appoggio poi va a chiudere sul possibile intervento di Mastro Anunzio rimessa con le mani comunque a favore dell'Ancona Schiattarella profondità per Mastro Anunzio la chiusura da parte di Gazzola prova a ripartire l'Ascoli ora con Di Donato vedete che tutti i giocatori dell'Ascoli sono a presidere la propria area a eccezione di Antenucci fatica ad uscire la squadra marchigiana la squadra ascolana chiaramente di marchigiana ce ne sono due quest'oggi Di Donato Luci ancora Di Donato chiama il pallone D'Agostino a destra è completamente libero ma anche in opposizione irregolare si alza infatti la banderina dell'assistente calcio di punizione a favore dell'Ancona due palloni in campo eccolo Antonino D'Agostino uno dei rinforzi del mercato di gennaio nell'Ascoli rinforzi del mercato di gennaio che invece sono un po' mancati ad Ancona di questo si lamentavano i sostenitori dorici nel corso degli ultimi mesi più che altro perché Salvioni ha dovuto schierare un po' per tutto il campionato così lungo come quello che sarebbe spesso la stessa formazione ci sono stati ricambi attenzione intanto a questo suggerimento in area c'è Luci con la finta con il corpo spiazza Catinali prova a ripartire l'Ascoli ma vedete c'è solo Antenucci davanti si propone ora D'Agostino a destra tocco invece per Pesce a sinistra Luci pallone ancora per D'Agostino che ha spazio di fronte a sé attenzione D'Agostino prova a puntare l'uomo ancora con il sinistro scivola momento di calciare ancora D'Agostino entra in area D'Agostino l'appoggio per Luci prova il piazzato con pallone che esce davvero di pochissimo si è sentito un boato da parte dei sostenitori Ascolani che hanno quasi avuto l'illusione del gol pallone che è uscito di pochissimo ha provato a piazzarla con il piatto Luci vedete sul tocco di D'Agostino pallone che è uscito davvero di pochissimo nonostante fosse comunque proteso in tuffo da costa ecco il pressing di Donato alto su Schiattarella allora si rifugia su Cristante Catinali ancora Cristante vedete Ascoli che difende all'inverosimile troppo nella prova in metà campo però a mio avviso consentendo ai giocatori dell'Ancona di esporsi in avanti Catinali profondità attenzione la chiusura da parte di Silvestri arriva poi Mastronunzio ancora Silvestri in contatto spalla a spalla regolare con Mastronunzio prova ad uscire Silvestri la profondità a cercare l'intervento da parte di Antenucci attenzione Antenucci posizione regolare supera da costa Antenucci Antenucci prova ad entrare in area c'è il recupero sull'esterno della rete da posizione decentrata Antenucci fallisce clamorosamente il gol del 2-0 al venticinquesimo esatto nel corso del secondo tempo venticinquesimo nel primo tempo che aveva colpito la disperazione da parte di Pillon ha fallito in occasionissima l'aspio sull'altro fronte l'Ancona Gazzola intercetta questo pallone poi Mastronunzio però riesce ad arrivare sulla sfera vuole De Falco a sostegno attenzione la partita ora nella fase cruciale lo scambio con Surraco carica il destro Surraco Guarna controlla un pallone difficile perché gli ha imbalzato davanti difficile il controllo da parte di Guarna ma Lascoli ha avuto l'occasionissima per chiudere la gara Antenucci aveva superato Dacosta la stiamo rivedendo Dacosta quasi volere trattenerlo sarebbe stato espulso anche lui invece Antenucci allarga troppo il piattone destro in questo caso la disperazione mani nei capelli per Pillon mani nei capelli in volto anche per Antenucci poteva essere il gol che chiudeva definitivamente la gara prova ad insistere Lascoli ora con Luci ancora pallone nello spazio per Pesce vedete molti spazi anche concessi essendo in nove dall'Ancona all'Ascoli prova a scendere D'Agostino ancora a puntare l'uomo D'Agostino fermato da De Falco sarà a calcio d'angolo a favore della squadra marchigiana evidentemente il criterio di Chilon adottato per sostituire Lupoli è quello di allargare la formazione dell'Ancona che già essendo in inferiorità numerica allargando si poteva predisporre spazi centralmente per Lascoli probabilmente la sostituzione di Lupoli per D'Agostino è da spiegare in questo modo calcio d'angolo a favore dell'Ascoli pronto Pesce dalla bandierina vicino a lui anche di Donato poi si allontana parte Pesce tra vittoria bassa prova al volo Gazzola una conclusione difficilissima che non può terminare altissima sopra la traversa di Da Costa incursione offensiva di Marcello Gazzola 27esimo nel corso secondo tempo sempre 1-0 Ascoli ma grandi emozioni in questo derby anche per il nervosismo anche per le espulsioni ben trea anche per le occasioni quello dell'Ancona nel primo tempo quello dell'Ascoli nel corso del secondo il Paloa dopo 50 secondi insomma è stato un derby degno di questo nome quello tra Ancona ed Ascoli fino a questo momento e ancora non è finita siamo al 28esimo è pronto a catenare è pronto anche Schiattarella a ricevere tocco con l'esterno Colacone prova ad infilarsi chiude però bene gli spazi in questo caso Marino che poi non riesce ad evitare la rimessa con le mani in zona d'attacco a favore dell'Ancona che comunque ci crede grande prova di generosità da parte degli uomini di Salvioni Schiattarella il tocco per Cristante orizzontalmente per De Falco attenzione De Falco prova a cambiare gioco sulla destra per Surraco la chiusura su di lui da parte di Pesce Surraco prova ad avanzare lo scambio con Catinali ricomincia da De Falco si prova a rimanere lì ma solo Antenucci è davanti ora l'Ancona a spazio per l'avanzata di Cristante attenzione Cristante con il destro poi Schiattarella prova a mettere dentro respinta di D'Agostino ancora Cristante De Falco Tracciante interno attenzione la chiusura da parte di Marino poi Gazzola che spazza via ma l'Ancona rimane in attacco Nascoli troppo difensivo Cristante pallone basso attenzione Mastro Anunzio Mastro Anunzio poi arriva Catinali piazzato Guarna nonostante la rivelazione riesce ad arrivare sul pallone Nascoli che attende troppo l'Ancona un'Ancona che si vede non ha forze ma mette in campo tantissimo cuore tantissima generosità e quindi concedendo troppi metri l'Ancona la formazione di Salvioni riesce comunque a rendersi pericolosa L'Ascoli invece non riesce a sfruttare rimanendo persistentemente nella metà campo anconetana la sua superiorità numerica ecco il lancio di Surraco ora orizzontalmente per Cristante la chiusura da parte di Luci c'è quasi più paura di prendere da parte dell'Ascoli che voglia di attaccare attenzione intanto De Falco De Falco fermato in maniera providenziale dall'intervento da parte di Luci poi prova a scendere Giallombardi in anticipo ma riconquista il pallone ancora Surraco De Falco ecco Surraco l'uruguayano vuole andare sul fondo per il cross perde però il contrasto c'è fallo intervento falloso a pallone che era già stato perso calcio di punizione a favore dell'Ancona punizione a favore dell'Ancona ci sono provvedimenti Giallombardi era già stato ammonito con l'intervento da parte di Luci punizione comunque interessante questa a favore dell'Ancona stiamo arrivando all'intervento vedete aveva già perso pallone Surraco è arrivato poi Giallombardi che era già stato ammonito a fermare in questo caso Surraco lanciato a rete calcio di punizione a favore dell'Ancona tutto pronto attenzione Catinali anche De Falco sul punto di battuta vedete che poi Trepoloni vuole far rispettare la distanza giusta dal quale dovrà essere battuto il calcio di punizione tutto pronto Catinali e De Falco mezz'ora esatta nel corso del secondo tempo barriera formata da Guarna parte De Falco la sua conclusione con il destro respinta da parte della barriera ancora De Falco che prova a gestire questo pallone tocco arretrato per Catinali quindi Surraco che è rimasto addirittura ultimo uomo l'attacco da parte di D'Agostino su di lui arriva però ancora Lascoli che sbaglia in questo caso baglia il suggerimento in profondità Schiattarella poi c'è un intervento falloso su Giallombardo calcio di punizione in difesa a favore dell'Ascoli che può un po' rifiatare è un'Ancona che nonostante sia in 9 contro 10 sta spingendo in avanti ma colpevolmente a mio avviso un'Ascoli un po' troppo disposto in maniera difensiva considerata soprattutto la sua priorità numerica intanto c'è anche un'ammunizione per Guarna quindi ammonito anche Guarna sono 6 gli ammoniti 3 gli espulsi è un derby anche da questo punto di vista si vede dal nostro Tacquino intanto sbaglia il rinvio Guarna lo manda a quel paese Pillon è talmente imbufalito ancora prova a gestire il possesso del pallone attenzione intanto D'Agostino recupera la sfera prova ad avanzare ancora D'Agostino tra due avversari D'Agostino se ne va da solo D'Agostino D'Agostino cade giù intervento sul pallone dice Trepoloni allora si prosegue poi attenzione a D'Agostino ed ecco l'espulsione anche per D'Agostino intervento falloso quindi si chiude in 9 contro 9 espulso D'Agostino nell'Ascoli episodio sicuramente da rivedere anche la motivazione per la quale è stato espulso D'Agostino è durato poco il suo ingresso in campo al posto di Lupoli parità numerica di fatto ristabilita si gioca in 9 contro 9 questo derby delle Marche ecco l'intervento di Schiatarella su D'Agostino si lamenta poi Catinali vedete che Catinali va a spintonare chiedo scusa D'Agostino spintona Catinali l'arbitro osserva il tutto e lo espelle non era cattivo in questione per la spinta di D'Agostino ma l'arbitro l'ha visto era vicino all'azione ora siamo in 9 contro 9 l'Ancona prova ad insistere non c'è più nulla a livello tattico Catinali cade giù calcio di punizione a favore dell'Ancona ancora munizione questa volta per Luci davvero una partita che sta diventando molto cattiva tra virgolette con ben 7 ammoniti e 4 espulsi 4 espulsi un cambio un altro cambio nell'Ascoli è pronto ad entrare Giorgi vedremo al posto di chi al posto di Pesce non cambia nulla il punto di vista tattico fuori un esterno stanco comunque come Pesce dentro l'altro giocatore Ascolano di nascita e cresciuto nel vivaglio Ascolano come Luigi Giorgi ex Foligno sono due giocatori a rappresentare pienamente questo derby De Falco nell'Ancona in Conetano cresciuto nel vivaglio Giorgi nell'Ascoli Ascolano cresciuto nel vivaglio fuori Pesce dentro Giorgi siamo al minuto 33 sempre un a zero a favore dell'Ascoli sta girando il gol di Antenucci al 25esimo ma è successo di tutto in questo secondo tempo ben 4 espulsioni partita che è diventata molto cattiva sul racco va al traversone la respinta da parte di Luci ora prova comunque ad attaccare l'Ancona ingresso di D'Agostino direi che non è stata una scelta azzeccata da parte di Pillon la luce anche di questa espulsione e la luce anche di un tipo di atteggiamento attenzione intanto al traversone per Colacone un po' troppo difensivo da parte dell'Ascoli rimessa con le mani a favore dell'Ancona sul racco lo scambio vuole l'1-2 prova ancora a scendere il giocatore Anconetano sarà semplice rimessa dal fondo a favore dei giocatori Ascolani 11 al termine più eventuale recupero sempre 1-0 per i bianconeri pronto Guarna ad andare al rinvio l'ex portiere Anconetano pallone che spiove dalle parti di Antenucci che non arriva c'è Giorgi uomo vicino più vicino al suo sostegno Antenucci fermato forse in maniera irregolare da Pisacane l'arbitro però lascia proseguire si rialza Antenucci allora da Costa l'avete visto Pillon letteralmente in biperito per questa ultima decisione schiattarella prova a spingere ora per l'Ancona a sinistra avanza ancora grandi falcate per via orizzontale De Falco la profondità cercare a destra lo scatto di Surraco pallone ancora buono e poi Giorgi protegge per la semplice rimessa dal fondo a favore dell'Ascoli altro cambio dell'Ancona dentro Gerardi fuori Surraco quindi Ancona in campo con tre punte in questo finale Gerardi giocatore nato a Fortenone di proprietà dell'Udinese fuori Surraco dentro Gerardi tre punte per l'Ancona una sola per l'Ascoli siamo in nove contro nove l'Ancona che vuole assolutamente cercare il gol del pareggio quindi diventa quasi un 3-2-3 in questo finale atteggiamento tattico offensivo dell'Ancona Giallombardo la profondità la chiusura da parte di Pisacane rimessa con le mani a favore dell'Ascoli pronto Giallombardo il tocco per Antenucci questa volta la rimessa è per l'Ancona Cristante Schiattarella pressing di Luci attenzione ancora Schiattarella che ora ha spazio di fronte a sé avanza palla al piede Schiattarella rimane basso l'Ascoli Donato pallone in profondità Mastronunzio si alza poi la banderia dell'assistente era stato ancora una volta providenziale Guarna nel tentativo di respinta con Mastronunzio che si era girato in corsa Guarna aveva messo il pallone addirittura sulla traversa ottimo intervento anche se il gioco era fermo da parte dell'estremo difensore di Catanzaro che ora è pronto ad andare alla rimessa avete visto intanto sullo sfondo anche Simone Pesce rimasto in panchina a osservare questo finale di campionato intanto posizione di offside di Antenucci sul lato opposto del campo De Falco tocco per Cristante Schiattarella è un monologo la questione dell'Ancona pallone in profondità per Gerardi che svetta ma l'anticipo è ottimo da parte di Marino prova ad uscire ancora Lascoli pallone in profondità per Antenucci troppo lungo non ci sono altri compagni accanto a lui Antenucci isolato fa quel che può da quando Lupoli il suo compagno di reparto è stato sussidito con D'Agostino che poi è stato espulso De Falco profondità la chiusura da parte di Giallombardo a sinistra nella zona dove agisce Giorgi Antenucci vuole ricominciare ancora da Giallombardo ora di Donato Antenucci dialogo con Giorgi ancora Antenucci pallone di ritorno rimessa con le mani a favore dell'Ascoli ora la stanchezza come detto subentra comincia a subentrare dato che siamo al 37esimo terza partita in sette giorni due formazioni poi soprattutto si deve coprire tutto l'arco del campo in nove contro nove attenzione se ne va bene Giorgi viene fermato in maniera fallosa calcio di punizione fallosa da Pisacane calcio di punizione a favore dell'Ascoli ora guadagna un po' di fiato un po' spezza questo trantram del secondo tempo dell'Ancona l'Ancona che ha preso in mano subito il primo gioco nonostante l'espulsione prima di Savagno quindi avesse affrontato una ventina di minuti in 10 contro 11 ha continuato a mantenere questo atteggiamento offensivo con l'Ascoli un po' troppo ritratto in difesa poi Pilon ha tolto una punta Luple ha inserito D'Agostino forse voleva cerchiarli infoltendo il centrocampo D'Agostino poi è stato espulso è stato espulso anche Cosenza così come Micolucci 4 addirittura l'espulsione tanto profondità verso Giorgi non arriva questo pallone per lui Colacone Catinali arriva poi Di Donato il contrasto tra i due Di Donato lo vince c'è il calcio di punizione a favore dell'Ascoli per l'intervento falloso di Catinali su Di Donato vedete le spiegazioni tra Catinali e Giallombardo questo l'intervento un po' troppo gioco duro di Catinali battuta la punizione attenzione Giorgi vuole 1-2 ecco che riceve pallone ancora in profondità Antenucci si alza però la bandellina dell'assistente azione irregolare di Antenucci quindi gioco già fermo nulla e balzo poi la conclusione anche in questo caso era stata respinta da Costa intanto posizione probabilmente irregolare da parte di Gerardi che poi è rimasto a terra nel contrasto con Silvestri allora calcio di punizione in difesa a favore dell'Ascoli stiamo rivedendo intanto il contrasto di pochi istanti fa con gioco che era già fermo per un offside di Gerardi Giorgi di Donato contro tempo Cazzola rimessa a favore dell'Ancona Cristante Pisacani lancio con il sinistro profondo a cercare Gerardi attenzione Gerardi prova a entrare in aria fermato da Silvestri nel calcio d'angolo sarà dunque il corner a favore dell'Ancona minuto 40 iniziato da alcuni secondi sempre 1-0 Ascoli l'Ancona cerca tutto per tutto siamo in 9 contro 9 due espulsioni per parte quattro in totale sette ammoniti De Falco parte dalla banderina attenzione mischia in aria poi spazza via addirittura Gazzola tutto l'Ascoli nella propria era di rigore prova ad insistere dunque l'Ancona Schiattarella vuole uscire di Donato Schiattarella controlla tocco a destra ancora per Catinali ecco Schiattarella che si propone in vesti di suggeritore pallone che parte c'è la deviazione però da difensore Ascolano sarà calcio d'angolo ancora per l'Ancona arriva tutto subito corto attenzione Catinali pallone che spiove nel mezzo l'uscita da parte di Guarna con i pugni però allora rimane sul pezzo la squadra di Salvioni ancora con De Falco vuole l'inserimento offensivo troppo lungo questo pallone per tutti allora c'è l'uscita da parte di Guarna che controlla in presa di Donato di Donato ora Giorgi si fa vedere Antenucci Ascoli preferisce trattenere palla ancora Giorgi fermato in maniera fallosa punizione a favore dell'Ascoli pronto Lucci lo scambio con Giorgi avanza ancora Giorgi palla al piede tra due avversari Luci c'è il pressing da parte di Mastro ora Gian Lombardo tocco a sinistra ancora per Di Donato quindi Luci avanza palla al piede solo Antenucci è spostato a sinistra ecco che riceve palla al piede Antenucci però è completamente solo non ci sono compagni che vanno da Manforte Antenucci preferisce tornare indietro poi servire ancora Di Donato sedimento ora da parte di Giorgi attenzione Giorgi in area la finta Giorgi si rialza poi ancora il tocco per Luci viene fermato ha provato a rialzarsi Giorgi forse c'era anche un intervento ai suoi danni anche qui bisogna rivedere poi è uscita bene Lancone in fase difensiva Colacone Pisacane gira subito a destra per il tocco su Catinale ora non c'è più tatticismo è chiaro il 9 contro 9 ogni posizione è buona Gerardi vuole la sponda attenzione Colacone può tentare il destro alza la mira tantissimo Colacone da un'ottima posizione mandando il pallone direttamente sopra la traversa intanto stiamo rivedendo l'azione che dicevamo pochi istanti fa con Giorgi in aria che scivola poi rientra potrebbe esserci anche l'intervento falloso in questo caso però Giorgi si è rialzato probabilmente se fosse caduto a terra poteva anche aspettarsi una concessione della massima punizione ancora Giorgi è entrato bene in partita lo scambio con Di Donato Giorgi Giallombardo ricordo l'unico Ascolano dei giocatori dell'Ascoli così come l'unico anconetano vero è De Falco sull'altro fronte Antenucci ha spazio di fronte a sé prova a puntare l'uomo avanza ancora Antenucci tra tre avversari vuole andarsene arriva Luci ma ottima la chiusura da parte di Schiattarella uomo ovunque va a rilancio attenzione in profondità è scoperto la difesa dell'Ascoli Gerardi va al controllo Gerardi attenzione in aria Gerardi vuole il sinistro la respinta da parte di Silvestri c'è calcio d'angolo a favore dell'Ancona ma si lamentano i giocatori della squadra d'Orica perché volevano un tocco con il braccio da parte di Silvestri anche qui episodio ce ne sono stati tantissimi da rivedere vedete Gerardi va in scivolata c'è questo braccio alto effettivamente di Silvestri che è un braccio lontano dal corpo poteva anche esserci la concessione del rigore anche se era una distanza molto vicina attenzione al caccio d'angolo è pronto De Falco pallone che spiove nel mezzo vaga Zola a respingere Schiattarella controlla poi il sinistro prova a colpire Catinali la respinta da parte di Marino arriva ancora Catinali prova a scendere lui nelle vesti di Ala zona cross Catinali viene fermato da Luci in un primo momento ma poi ritorna ancora Luci prova ad uscire Lascoli ora con Di Donato osserva il piazzamento dei compagni c'è il pressing su Di Donato difficile il controllo di questo pallone da parte sua poi Di Donato protegge la sfera in modo da regalare un nuovo fallo di fondo alla difesa ascolana il minuto è il 44esimo questo secondo tempo due abbondanti un abbondante al termine più eventuale recupero altro cambio dell'Ancona è pronto ad entrare Mustacchio vedremo al posto di chi? di Schiattarella Schiattarella ha guardato tantissimo applausi scroscianti del pubblico per lui a sottolineare una grande prova per Pasquale Schiattarella adattato un po' in tutti i ruoli da Salvioni quindi fuori Schiattarella dentro Mustacchio il giocatore che in ultimi mondiali under 20 segnava una doppietta contro la Spagna mondiali di Sudafrica trasmessi da Sky qualche mese fa quanto Luci Di Donato Gazzola ancora Luci cerca la gestione del possesso palla prova ad andarsene poi in fase offensiva a destra non c'è fallo Pillon si lamenta allora rimessa a favore dell'Ancona De Falco giustisce il possesso palla viene aspettato dai centrocampisti Ascolani il tocco a sinistra per Mustacchio vuole puntare il giocatore di proprietà della Sampdoria l'uomo ancora Mustacchio è fresco prova a mettere nel mezzo pallone respinto ecco De Falco Di Donato prova a salire alto De Falco ha ricevuto ancora da Cristante ha spazio di fronte si avanza ancora De Falco attenzione il pallone dato a sinistra per Mustacchio zona cross per lui Mustacchio vuole mettere dentro pallone che spiove sul secondo palo Gerardi lo vuole mettere ancora dentro poi c'è la chiusura da parte di Marino sarà calcio d'angolo a favore dell'Ancona la mezza dovesciata da parte di Gerardi al 45esimo quasi esatto nel corso di questo tempo in attesa di sapere quanto ci sarà da recuperare seguiamo questo calcio d'angolo a favore dell'Ancona Schiattarell è rimasto a bordo campo tutto pronto parte De Falco pallone che spiove nel mezzo Gerardi non arriva c'è il gol da parte di Cristante il pareggio dell'Ancona con Cristante al 45esimo esatto il gol del pareggio di Cristante sotto porta a seguito di calcio d'angolo e l'Ancona trova il pareggio proprio nell'azione quanto scoccava il 45esimo esatto Filippo Cristante ha portato il risultato in parità per l'Ancona e trova dunque il gol del pareggio con Cristante vedete Pillon tutta la rabbia sul suo volto per un citato che stava quasi per essere acquisito però qualche colpa l'Ascoli probabilmente ce l'ha nel fatto di aver gestito la partita un po' troppo in difesa nell'ultimo nel secondo tempo e Cristante dunque va a realizzare il suo primo gol stagionale l'ottavo dal 93 giocatore ex Mantua è Messina con il suo colpo di testa stiamo rivedendo il calcio d'angolo la battuta di De Falco svetta sotto porta Cristante nulla da fare per Guarni è il gol dell'1 a 1 tra Ancona e Ascoli vedremo quanto ci sarà da recuperare per questo secondo tempo vedete che ora ovviamente tutti i sostenitori di casa urlano Ancona Ancona e chi non salta è un ascolano chiaro che gli scottoi per questo derby sono all'ordine del giorno non abbiamo visto quanto abbia dato da recuperare il quarto uomo siamo già al 47esimo in corso per vento falloso nel frattempo su Luci calcio di punizione a favore dell'Ascoli pronta l'esecuzione di questo calcio di punizione della squadra di Pilon che stava già pregustando possibile successo qui ad Ancona intanto mi dicono la regia 6 minuti di recupero quindi si giocherà fino al 52esimo attenzione Giorgi prova ad entrare in area Giorgi ancora da solo il destro Giorgi sotto misura il gol dell'Ascoli incredibile al 47esimo il gol da parte di Giorgi 2 a 1 Ascoli incredibile l'esultanza da parte dei sostenitori della squadra bianconera proprio al 47esimo minuto due minuti dopo Giorgi ha portato l'Ascoli al gol del 2 a 1 un ascolano verace al primo gol in questo campionato primo gol con la maglia dell'Ascoli in questo campionato uno ne aveva realizzato anche l'anno scorso a Bari è un gol di un ascolano l'unico ascolano della squadra bianconera vedete tutta l'esultanza incredibile che emozioni in questo derby al 45esimo c'è stato il pareggio di Cristante al 47esimo il gol dei 2 a 1 di Giorgi incredibile tantissime emozioni 4 espulsi 7 ammoniti è successo di tutto in campo e anche sugli spalti con l'esultanza ora da parte dei giocatori dell'Ascoli prima da parte di quelli dell'Ancona stiamo vedendo l'azione iniziata proprio da lui a Giorgi Antenucci in pratica gli fa da velo con il pallone che colpisce un difensore dell'Ancona poi Giorgi sotto misura trova il gol forse più importante della sua carriera il gol storico per un ascolano come lui segnare nel derby e ora si giocherà ancora per 4 minuti da Costa va a rilancio lungo c'è l'uscita addirittura di Guarna c'è il blocco su di Guarna che però riesce a far su il pallone c'era stato Gerardi che colpiva di testa che emozioni allo stato del Conero che emozioni da una parte e dall'altra è incredibile con l'Ancona che aveva trovato il pareggio al 45esimo e durante il secondo dei 6 minuti di recupero Lascoli con Giorgi è tornato nuovamente in vantaggio ancora Giorgi lo scambio con Antenucci il tocco a destra per Luci quindi Gazzola avanza palla al piede Gazzola tanto gioco fermo è rimasto a terra Luci che vedete si tocca il ginocchio ammunizione e espulsione la terza dell'Ancona la quinta dell'incontro per Cristante incredibile Ancona che chiude in 8 8 contro 9 che derby signori 8 contro 9 è stato un derby nel vero senso della parola in campo sugli spalti per agonismo per emozioni per nervosismo anche sul rettangolo verde questo è l'intervento di Cristante e qui anche qui la munizione c'è tutta Cristante era già stato ammonito e viene espulso Ancona che chiude in 8 contro 9 davvero da record Salvioni si è seduto chiaramente dopo il gol di Giorgi può essere una mazzata ora l'espulsione anche di Cristante la quinta di questa gara 5 espulsi Cosenza Micolucci D'Agostino Cristante e Savagna 3 nell'Ancona 2 nell'Ascoli il rilancio da parte di D'Agosto ora con la forza della respirazione ci prova la formazione marchigiana c'è Giallombardo che chiude che sparacchia via questo pallone in fallo laterale incredibile minuto 50 2 al termine più pochi secondi 2 a 1 a favore dell'Ascoli la rimessa con le mani in zona d'attacco a favore dell'Ancona Colacone attenzione Colacone vuole De Falco vicino a lui c'è il pressing da parte di Donato De Falco prova a mettere dentro Gerardi che sfiora il pallone di testa ma di fatto lo mette direttamente in fallo laterale ora in 8 contro 9 non vi dico più come si gioca è chiaro che tutti con la forza di respirazione quelli dell'Ancona non c'è nemmeno voglia tempo di difendersi e Ascoli che prova invece a difendere questo preziosissimo vantaggio ancora Gerardi attenzione può andare al tiro Gerardi viene fermato poi prova a ripartire ancora la squadra marchigiana con Giallombardo cade tra due avversari ma recupera ancora lo stesso attaccante di Pordenone quindi Pisacane pallone centrale Mastronunzio che scivola lo mette dell'assist poi intervento falloso di Colacone su Marino c'è calcio di punizione in difesa a favore dell'Ascoli 50 minuti 32 secondi 2 a 1 a favore dell'Ascoli sta decidendo un gol al 47esimo da parte di Giorgi l'Ancona aveva trovato il pareggio al 45esimo con il primo gol anche per lui stagionale per Filippo Cristante il primo gol invece era stato realizzato due minuti più tardi da Giorgi in questo campionato il secondo in totale con la maglia dell'Ascoli colpo di testa da parte di Pisacane rimessa con le mani e a favore dei bianconeri ultimo minuto di gioco che sta per iniziare pronto Luci lo scambio con Di Donato ora Luci Giorgi ci gira splendidamente attenzione ora Ascoli che può andare a chiudere 4 contro 2 si ferma Luci arriva Di Donato il tocco gestito per Antenucci Antenucci preferisce gestire il possesso palla e c'è poi il triplice fischio da parte di Trefoloni L'Ascoli batte l'Ancona 2 a 1 ed era dalla stagione 32-33 l'unica vittoria dell'Ascoli in Serie C1 che L'Ascoli non vinceva quindi esattamente diversi diversi anni che la formazione ascolana non espugnava lo stadio del Conero la prima volta che espugnava lo stadio del Conero almeno in campionato era successo anche nel torneo anglo-italiano del 94-95 la semifinale che poi valse a Wembley la finalissima nel torneo anglo-italiano contro il Notts County persa poi dall'Ascoli Ascoli che dunque ripaga con la stessa moneta il successo che fu dell'Ancona l'andata lo scorso 21 novembre 3-1 dopetta di Masunzio gol di Colacone questa è la protezza decisiva quella di Giorgi sotto porta nulla da fare per Da Costa per Giorgi una giornata sicuramente da ricordare non era partito tra i titolari è entrato poi al posto di Pesce ha trovato il gol decisivo grazie a tutti